Per partecipare a questa iniziativa che mi sembra molto completa e interessante, ringrazio anche voi della presenza, visto il programma che è impegnativo anche di due tempistiche, direi che seguiamo come da programma la scansione del pomeriggio e per quanto riguarda il dibattito ovviamente vediamo un po' come viene fuori, eventualmente essendoci una connessione internet potremmo anche avere accesso ad alcune delle pubblicazioni di vetro agricoltura che non ho portato per motivi fisici di peso ma che sono ovviamente poi disponibili sia online che direttamente presso la nostra sede per quelle che sono presenti in versione cartacea. Come avevo anticipato gli organizzatori giustamente è stato detto parliamo di bioenergie, il tema è talmente ampio che evidentemente ogni volta che io devo affrontarlo davanti a un pubblico c'è un problema di focalizzare i temi, allora io avrei un po' arbitrariamente scelto di gestire così questo tempo, facciamo una breve introduzione sul tema delle bioenergie in generale e poi piuttosto che fare una casistica di tipo un po' scolastico che comunque a domanda ovviamente verrà data risposta, io approfondirò alcuni dei progetti che abbiamo in atto e ho scelto alcuni progetti che soprattutto sono caratterizzati da un aspetto che è quello dell'abbinamento fra la produzione di biomassa e delle funzioni particolari del bosco o delle strutture boscate che producono la biomassa. Questo perché come vedrete uno degli assi nella manica del legno, parleremo anche di altre forme di bioenergia, però diciamo che la linea importante dell'intervento come la previsione è quella delle biomasse solide e quindi delle filiere legno-energia. Il legno è la biomassa utilizzabile per produrre energia che dà le maggiori possibilità di interazione e integrazione con delle attività di pianificazione territoriale da una parte e dall'altra di efficacia dal punto di vista delle ricadute di tipo ambientale. Con i problemi che si porta dietro a questo aspetto perché come vedremo sullo sfondo c'è sempre e comunque il tema economico, le strutture costa a gestirle, producono sicuramente un prodotto di legno che ha un suo valore, ma quello è il tassello sempre più difficile e difficoltoso è quello di come valutare ciò che questi interventi restituiscono al territorio in termini di benefici ambientali per la collettività. Ci sono fiori di studi su questo tema, tutti riescono a quantificare in qualche modo, ma dalla quantificazione del valore alla monetizzazione, chiamiamola così, purtroppo spesso ci passa parecchio e quindi questo sarà uno dei temi che forse saranno un po' sullo sfondo di tutto il mio intervento. È vero che c'è il dibattito, quindi vi chiederai tendenzialmente le cose che avete da dire di tenerle per la seconda parte del pomeriggio, però è anche vero che se ci sono delle domande puntuali su quello che sto dicendo eccetera vi invito comunque a fare, eventualmente sarò io a riproporle dopo se la risposta risulta essere troppo complessa. Ecco, io mi presento molto brevemente, sono Federico Correale, lavoro a Veneto Agricoltura e da qualche anno dirigo il settore bioenergia e cambiamento climatico dello stesso ente regionale, sono forestale, quindi mi occupo di bioenergia a 360 gradi, ma come ben capirete la mia formazione è più vicina al tema delle biomasse solide che di quelle liquide e gassose, alcune delle quali comunque rivestono un interesse particolare per il nostro territorio. Un altro obiettivo vi dico molto sinceramente è quello di fare due parole senza entrare in molti dettagli tecnici, però cercando in qualche modo e spero di riuscirci anche di sfatare alcune mancate conoscenze, chiamiamole così, che derivano generalmente da una informazione che non sempre su questi temi è veramente consona. Di bioenergia purtroppo si legge più sui giornali che sui documenti tecnici e come ben sapete l'informazione non ha sempre un taglio oggettivo. Quindi queste saranno secondo me le cose su cui avremo da discutere dopo la pausa. molto brevemente, veneto agricoltura sapete che se non altro anche qui per ciò che si legge sui giornali in questi giorni, visto che siamo sottoposti ormai da mesi a un processo di revisione e di ristrutturazione come molti altri enti regionali, si occupa di bioenergie da molto tempo, sapete che è un ente regionale che si è originato dalla fusione di tre precedenti enti, l'ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'azienda regionale delle foreste del Veneto e l'istituto lattiero caseario di Tiene, a voi vicino. Queste tre entità hanno dato origine a Veneto agricoltura, ancora nel 1999 e 2000 poi si è iniziata tutta l'attività. Noi ci occupavamo di biomasse solide già come azienda regionale e le foreste, abbiamo continuato a occuparcene, però trattando poi di temi agricoli più su larga scala abbiamo allargato l'interesse e le attività anche alle altre fonti di bioenergia. In particolare come vedete oltre a quelle solide, si parla primariamente di legno, a quelle liquide quindi ai biocarburanti e all'olio vegetale puro, le ho distinti perché per biocarburanti qua si intende comunque un'area che è quella riferita a dei carburanti che derivano da dei processi chimico-industriali per la loro produzione, quindi biodiesel da una parte e bioetanolo dall'altra. E gassosa, quando si parla di produzione di energia da biomasse, si parla di gas e quindi di biogas e di biometano, su cui faremo dei cenni. Ecco, un tema su tutti. La produzione di energia da fonti rinnovabili deve andare sempre di pari passo con una coscienza dei consumi e quindi della possibilità di risparmiare. Noi non abbiamo la possibilità di sostituire interamente la quota di domande energetica che attualmente c'è nel nostro paese e nella nostra regione con le energie cosiddette rinnovabili. Questo deve essere chiaro a tutti. È però vero che una fetta importante del fabbisogno può essere ricoperta da queste fonti. Attenzione che quando si parla di bioenergie si parla, come vedremo fra poco, di energie prodotte in qualche modo da biomassa, qualunque sia la fonte di biomassa che noi consideriamo. Non si parla quindi di fotovoltaico, eolico e tutte queste fonti di energia che sono ascrivibili a fattori fisici e che sono comunque delle fonti rinnovabili importanti. Quindi il pacchetto delle rinnovabili ha un peso importante nella prospettiva del nostro panorama energetico. Ma quello delle biomasse ha il peso primario. È nettamente superiore che si pensi anche al fotovoltaico come previsione, sia su scala europea che su scala italiana. Il fotovoltaico ha comunque consentito, perlomeno sull'elettrico, ha consentito al nostro paese di fare dei passi avanti notevoli sul fronte degli impegni, come sapete, del protocollo di Chiotto e quindi bene o male gli incentivi, che pure sarebbero molto discutibili per molti versi, per come sono stati costruiti e per come poi si sono evoluti nel tempo, che è una caratteristica tipica comunque del nostro paese, chiamiamola scarsa propensione alla pianificazione a lungo termine, molto sinteticamente. Comunque l'obiettivo è stato ottenuto, cioè l'Italia nel processo 2020-2020 e soprattutto nei primi impegni di Chiotto, bene o male, azzecca il risultato. Tornando al discorso delle bioenergie, le bioenergie hanno la caratteristica, producendo energia a partire dalla biomassa, hanno sostanzialmente due caratteristiche importanti. La prima è che comunque la biomassa si genera nel territorio e quindi nel nostro territorio. Non stiamo comprando il petrolio dell'Arabia piuttosto che... Possiamo comprare della biomassa da paesi stranieri, ma la utilizziamo qua e spesso la trattiamo qua e comunque abbiamo la possibilità di usare la nostra, cosa che non abbiamo con i combustibili fossili. L'altro elemento è che ovviamente il fattore della produzione agricola, in senso lato, è fortemente interessato da tutte le iniziative di produzione di energia da biomassa. Perché bene o male le biomasse si generano o da attività agricole dirette o da attività indirette, ovvero dal mondo dell'agroalimentare, della trasformazione. Una terza categoria che oggi non tratteremo, se non proprio toccandola minimamente, è quella delle biomasse di provenienza waste, quindi rifiuto, e quindi della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, che come ben sapete ha come possibili destinazioni sia la produzione di biogas sia il compostaggio. Faremo cenno a queste cose perché uno dei progetti che cito, è un progetto che è in corso adesso, il progetto GR3, che tratta dell'utilizzo di scarti erbacei per la produzione di biogas, e quindi entrano in gioco un po' tutti questi ragionamenti. Ecco, è chiaro quindi che l'interazione con l'agricoltura diventa fondamentale e cominciamo anche a capire un altro elemento importante, che è l'utilizzo delle bioenergie più che altre forme di produzione energetica, può e anzi spesso ha delle ricadute sul fronte della gestione del territorio. Possono essere negative o positive, e sul fronte ambientale evidentemente. Quindi sta un po' a noi pianificare le soluzioni in maniera corretta e cercare di utilizzare questa via in maniera più virtuosa possibile, limitando al minimo gli impatti potenzialmente negativi, che come in tutte le attività umane, sottolineo dieci volte, esistono. Ovvero, qualunque cosa noi facciamo può avere degli impatti negativi. Produrre energia ha degli impatti negativi. Far funzionare un motore a gasolio di 40 anni fa ha degli impatti negativi. Far funzionare un motore a gasolio uscito ieri di fabbrica ha degli impatti negativi, diversi ovviamente dal primo. fare il falò della veccia nei giorni che voi ben conoscete ha degli impatti negativi. Fare il nostro falò a casa, bruciare i sarmenti, ha degli impatti negativi. Tutto ha degli impatti negativi. Si tratta di capire come limitare al minimo e, se possibile, al di sotto di quelle soglie che si ritengono essere potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini, evidentemente. Questo è l'obiettivo. È bene sottolineare queste cose, perché, per fare un esempio, l'energia che ci appare più pulita, che è quella dei pannelli fotovoltaici che mettiamo sui nostri tetti, è un'energia pulita qui, tendenzialmente. Si vedrà poi quando si tratterà di smaltire questi pannelli, ma in origine è un'energia che è costata in termini economici e ambientali molto, ma molto cara. I principali bacini di produzione del wafer di silicio per produrre i pannelli fotovoltaici sono in Cina, come sapete, e ancora gli stabilimenti cinesi che producono i pannelli, che producono i wafer, funzionano tipicamente a carbone sporco, cioè carbone di prima generazione. Quindi parliamo di migliaia di megawatt che buttano in atmosfera per produrre i nostri bei pannelli puliti. È vero che succede a casa di qualcun altro, però è bene che qualche domanda ce la facciamo su questi temi. Ci sono tre elementi che noi abbiamo preso in considerazione quando abbiamo iniziato a occuparci di bioenergie e sono tre elementi, alcuni di quali sembrano scontati, ma che voglio ricordare molto bene. Allora, perché noi dovremmo impegnarci dall'agricoltura, veneto agricoltura è una struttura che si occupa primariamente di agricoltura, di pesca, di gestione del settore primario. Noi possiamo farlo se vengono mantenute alcune promesse dal mondo delle bioenergie, cioè se si verificano tre assunti che li sono elencati. Il primo assunto importante è al fondamento di tutto, ovvero qualunque filiera per la produzione di energia rinnovabile da fonti di biomassa deve essere sostenibile dal punto di vista energetico. Cosa significa questo? Significa evidentemente che gli input energetici per produrre quell'energia o quel calore devono essere di molto inferiori agli output che io riesco a ottenere. Purtroppo ci sono invece molti esempi di bioenergia, cosiddetta virtuosa, dove queste cose non si verificano. Sembra impossibile perché uno potrebbe dire, beh, nessuno è così stupido da mettersi a produrre energia se quello che spendo per produrla è di più di quello che ottengo. E invece succede, e invece in qualche caso succede, quando io produco energia elettrica, per esempio con un motore in un impianto da biogas, se non recupero il calore, in qualche modo non sto facendo della produzione efficiente di energia. La stessa legna può in teoria produrre energia elettrica, ma la resa sarebbe molto bassa e in tutti questi casi, a nostro modo di vedere, il gioco non vale la candela, ovvero noi non otteniamo quel rapporto fra input e output che ci consente di dire, pratichiamo questa via. Ve ne sono molti altri di esempi, però ho citato i due più eclatanti. Ovviamente anche su questo ci si potrebbe discutere, ma avremo tempo per farlo. Quindi sostenibilità energetica, se no, come detto, il gioco non vale la candela. Secondo elemento, abbiamo detto che le bioenergie sono il modo per produrre energia che ha la maggior ricaduta sul territorio, bene, allora a noi interessa promuovere e praticare le filiere bioenergetiche che consentono un'elevata sostenibilità ambientale. Dirò di più, le bioenergie consentono degli scenari post filiera che possono essere migliori di quelli pre. Allora, in questi casi a noi interessa, ovvero se io producendo energia rinnovabile miglioro anche il mio territorio, il mio ambiente, allora quelle sono le filiere che ovviamente andrò a promuovere di più. E come vedremo fra poco, il legno è una delle fonti che consente maggiormente questo tipo di risultati. Terzo elemento è un elemento da non dimenticare mai della sostenibilità economica, non fosse altro che per il fatto che quando non vi è questa tutto quanto il resto viene a cadere, soprattutto quando viene direttamente interessato al mondo agricolo, che è un mondo evidentemente che fa dell'attività sui campi il suo reddito e che quindi vuole vuole vedere un introito anche quando si avventura nel mondo della produzione energetica. Qui l'aneddoto da raccontare è questo, cioè ogni volta che si produce energia da biomassa ci sono due parti che entrano in gioco, chi produce la biomassa e chi la utilizza e produce energia. Alle volte i due soggetti coincidono e sono le situazioni più favorevoli ovviamente, ma purtroppo non le più frequenti. Ambe due questi soggetti hanno le loro attese. Allora tipicamente chi produce energia, soprattutto se non proviene dal mondo agricolo, considera la biomassa come uno scarto dell'agricoltura e in quanto scarto la considera valore zero. Non è infrequente vedere situazioni in cui la biomassa proveniente di scarto proveniente dall'agricoltura non viene retribuita o addirittura si deve pagare. Basti pensare a quella quota di biomassa che viene considerata rifiuto ad esempio. Se io raccolgo l'erba in un parco pubblico oggi, quella erba lì è considerata rifiuto. Se io la porto in discarica devo pagare. Quindi ho una risorsa, ho sostenuto dei costi per raccoglierla e devo anche pagare per conferirla. E d'altra parte chi disegna un business plan per il suo impianto, io domani metto in piedi un pirogassificatore piuttosto che un impianto a biogas, nel mio business plan se scrivo erba proveniente da sfalci, scrivo quanto la pago, zero, anzi ci guadagno e quindi è un grosso vantaggio. Da un punto di vista dell'agricoltura le cose cambiano. Però ricordatevi sempre una cosa che è legge di mercato questa, ovvero finché si parla di marginalità o di situazioni dettate da normative, come nel caso dei rifiuti, allora le cose stanno in piedi, se no le cose non stanno più in piedi. L'esempio più classico si ha nelle filiere per la produzione di biogas in tutti quegli impianti che si sostentano solo e unicamente digerendo l'insilato di mais, quindi il mais. Bene sono diversi nella nostra regione che funzionano in questo modo qua, producono dell'ottimo biogas e quando questi signori hanno fatto l'impianto, hanno considerato il mais disponibile nell'intorno dell'impianto, hanno detto guardate quanto mais c'è qua, è la principale cultura della nostra regione, glielo pago quello che è il valore di mercato, forse anche qualcosa di più, siccome l'incentivo per il biogas era molto elevato, i miei conti stanno in piedi. È chiaro però che nel momento stesso in cui io attacco l'impianto a biogas e comincio a cercare il mais nell'intorno, quel mais lì vale più la cifra che avevo immaginato, perché l'agricoltore che lo coltiva dice beh vediamo un po' dove lo do il mio mais, devo darlo a te o devo venderlo sul mercato, se sul mercato mi danno 10 tu mi devi dare 15 e questo ha messo fortemente in crisi i gestori di questi impianti, sono impianti che si sono basati su un prodotto il cui valore non era preventivabile, in buona sostanza anche lo scarto di valore 0 nel momento in cui serve per produrre un valore, automaticamente assume un valore e chi lo detiene prima o poi può in qualche modo reclamare questo valore, quindi il risultato di questo ragionamento mai immaginare dei business plan dove la matrice che entra per la produzione di biomassa vale 0, perché quello è già un errore di fondo, posso anche disegnare uno scenario del genere però devo disegnarlo come scenario ottimale, che non è detto che sempre si verifichi, se no le sorprese sono dietro l'angolo e si traducono essenzialmente in un risultato, ovvero un prolungamento nella migliore dell'ipotesi dei tempi di rientro dell'investimento, se poi io sono esposto con le banche capite bene, impianti di biogasti, quelli che ho citato prima, è un impianto che costava, quando sono stati costruiti questi impianti fra i 4 e 5 milioni di euro, capite bene che sono investimenti che nel mondo dell'agricoltura non sono proprio bruscolini, quindi rientrare in 4 anni piuttosto che in 8-10 non è proprio la stessa cosa. Quindi questi sono i tre elementi, se si verificano questi tre elementi allora noi ci interessiamo della produzione di bioenergie, se non si verifica anche solo uno di questi tre elementi, la filiera che andiamo a considerare, al nostro modo di vedere, non è una filiera da incentivare particolarmente. Parlare di biomassa vuol dire parlare di tutto e di niente, adesso noi andremo a focalizzare alcuni temi, però nel nostro paese sostanzialmente si produce energia da biomassa con il legno, biomasse solide, con tutte le biomasse fermentescibili provenienti dall'agricoltura, quindi con la produzione di biogas, con le biomasse provenienti come detto dalla filiera rifiuti, quindi sempre produzione di biogas ma non direttamente dal settore primario e poi da tutta una serie di agricoltura dedica le deiezioni, ovviamente anche le deiezioni entrano, anzi dovrebbero entrare in primis nelle filiere di produzione del biogas, la legislazione adesso è andata un po' verso quella direzione lì, ma ancora non ci siamo tanto e poi ci sono tutte quelle biomasse invece di scarto di tipo vegetale che possono essere utilizzate sia per combustione sia per, ma soprattutto per digestione. Ci sarebbero altre forme poi che sono gli oli eccetera eccetera che derivano sempre da culture, che possono essere anche culture dedicate. Ecco nel caso delle culture dedicate qui si potrebbe fare un lungo discorso perché la polemica, una delle polemiche principali è quella del perché io devo sottrarre dalla filiera food, cioè dai miei campi che producono cibo per la collettività, sottrarre in qualche modo biomassa e terreno per la produzione di energia. È un discorso che non è del tutto peregrino però non va assolutizzato, nel senso che comunque noi abbiamo bisogno di energia per le nostre attività umane, se non la produciamo con la biomassa la produciamo in qualche altra maniera e comunque se vi è un equilibrio studiato fra la quantità di massa che arriva sui nostri piatti e la quantità di massa che serve invece a far funzionare il sistema, un esempio di questi l'abbiamo fatto, non verrà citato qui ma ve lo cito adesso, sul filiera dell'olio vegetale puro. L'olio vegetale puro è un biocarburante di prima generazione, quindi è un biocarburante destinato probabilmente a scomparire nei prossimi anni. È un biocarburante che noi avevamo però studiato abbastanza nel dettaglio perché in questa fase di transizione nel mondo agricolo può essere ancora interessante. Quello che oggi non lo rende interessante in realtà è il regime fiscale che a fronte di un basso prezzo dei carburanti fossili, del gasolio agricolo per intendersi, rende poco competitivo l'olio vegetale puro. Quando noi facciamo quell'esperienza nella nostra azienda di Vallevecchia, una norma sulla finanziaria di quell'anno prevedeva una defiscalizzazione totale dell'olio vegetale puro per energia, per autotrazione prodotto nelle aziende agricole. Quella defiscalizzazione lì non fu mai applicata e quindi in qualche modo la convenienza di utilizzare gli oli è diminuita di molto. L'olio vegetale puro è interessante perché io posso andare a rotazione su un'azienda di taglia medio-grande, posso andare a rotazione, cioè a rotare una superficie dedicata a questa produzione, far funzionare i trattori con l'olio vegetale. Vi sono dei motori che nascono per funzionare a olio vegetale puro o possono essere adattati. Nell'azienda di Vallevecchia abbiamo testato tutte e due le soluzioni. L'ultimo trattore che abbiamo acquistato è un trattore B-Fuel che funziona a gasolio e olio vegetale. Nasce in fabbrica così, di produzione austriaca e non è commercializzato in Italia per il semplice motivo che non vi è convenienza usare l'olio vegetale puro, se no sarebbe commercializzato anche da noi. In questi casi le analisi ambientali sono state direi più che sufficienti a giustificare l'utilizzo di questi oli, nel senso che siamo ampiamente sotto i fattori di emissione previsti dalla legge per tutti i motori, quindi non abbiamo un motore che inquina di più dei motori tradizionali, ovviamente se parliamo di motori moderni, non dei trabiccoli di 50 anni fa, perché l'olio vegetale puro non è una novità di oggi, è stato utilizzato già. Noi utilizziamo il Colza per un motivo preciso, che sul Colza, proprio per gli aspetti di tipo ambientale e di emissioni, c'è una norma di qualità sostanzialmente che noi abbiamo dovuto seguire, mentre su altre fonti come ad esempio il girasole che produce anche un ottimo olio, non vi sono dei parametri di legge specifici e non è stato un gioco da ragazzi, perché abbiamo prodotto olio vegetale in azienda, l'olio vegetale era a norma uni e a norma DIN, il che significa che rispettava tutti i parametri ambientali di emissione e soprattutto mi dava la possibilità di ottenere la garanzia del produttore sul motore, perché il motore a olio vegetale viene garantito solo se si utilizza un olio certificato in qualche modo e quindi lì la partita stava abbastanza in piedi, però devo dire che lì l'evoluzione come avrete anche probabilmente letto, qualcuno di voi che è un po' più addentro tecnicamente magari ne sa anche più di me, l'evoluzione va verso i cosiddetti biocarburanti di seconda generazione che provengono dalla trasformazione non solo dei prodotti in pieno campo ma anche delle lignine che come sapete hanno dei grossi problemi a essere trasformate per via della loro resistenza, proprio alla degradazione batterica. Ci sono degli impianti per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, ce n'è uno anche in Italia che è abbastanza all'avanguardia, ma ancora come potete vedere anche voi la diffusione di questi biocarburanti non è così ampia, d'altra parte il nostro paese non ha mai politicamente puntato sul bioetanolo, cosa che invece è successa negli Stati Uniti dove il biocarburante liquido per eccellenza è il bioetanolo. Da noi si è puntato sul biodiesel, mixato con il diesel tradizionale come ben sapete e comunque parliamo di filiere che oggi non tratterò ma non perché non siano interessanti ma semplicemente perché sono filiere che attingono la biomassa dal mondo dell'agricoltura ma poi la fanno fluire nel mondo dell'industria e quindi bene o male non abbiamo una ricaduta diretta sul nostro territorio nella gestione di queste biomasse, può essere certo interessante per il produttore e basta. Queste sono le fonti che da noi possono essere utilizzate. Le biomasse solide restano ancora quelle più interessanti, intanto su quelle tradizionalmente utilizzate, questo è un fatto molto positivo dal punto di vista culturale, un po' meno dal punto di vista ambientale perché purtroppo più, tra virgolette consentitemi, tradizionali sono gli usi energetici del legno e maggiore è anche l'impatto ambientale di questi usi. Non bisogna anche qui, questo è il mio parere del tutto personale, attenzione, perché l'attenzione per la qualità dell'aria della nostra popolazione e delle persone è giustamente altissima in pianura padana in generale. E quindi io faccio sempre questa considerazione, il fatto che si formino molti comitati, che la gente sia molto attiva su questi fronti qua, è un po' lo specchio come di un macro organismo che ha il sistema immunitario già in qualche modo eccitato. Viviamo in un ambiente molto inquinato, le problematiche della salute legate all'inquinamento dell'aria le conosciamo tutti, è chiaro che rispetto a chi vive in un ambiente molto pulito, qui anche un piccolo tassello in più a questo panorama di alto impatto stimola subito una reazione da parte della popolazione. E con questa cosa noi dobbiamo fare i conti, perché è assoluto della gente evidentemente preoccuparsi della propria salute. Non bisogna però esagerare, questo è il mio parere del tutto personale, ripeto, voglio dire, ho fatto l'esempio dei roghi della veccia, cioè si possono tranquillamente regolamentare, però io vorrei capire se voi in generale sareste d'accordo a vietare tutti i barbecue e tutte le grigliate della domenica piuttosto che tutti i camminetti che molti di noi hanno nel salotto di casa. Diciamo che in alcuni contesti questi possono essere fonti di inquinamento anche molto importante, sono dei contesti montani di valle dove le caldaie che riscaldano le case tradizionalmente e i camminetti producono una quantità di particolato veramente impegnativo dal punto di vista della gestione sanitaria proprio. Ci sono molte modalità per abbassare in maniera drastica questi impatti, soprattutto le modalità principali passano attraverso un miglioramento degli impianti e un ammodernamento degli impianti, questo c'è poco da fare. Io credo che impostare una politica seria a medio e lungo termine di ammodernamento degli impianti ci possa anche consentire di dire andiamo verso un miglioramento percentuale importante dell'impiantistica e possiamo permetterci anche di fare barbecue alla domenica, per essere un po' in assenza di qualunque politica di questo tipo allora tutto diventa importante chiaramente, perché comunque parliamo di emissioni. Per quanto riguarda il legno in compenso c'è un tema di fondo, il tema di fondo è quello economico perché il legno comunque resta un prodotto che soprattutto se destra l'energia ha un valore piuttosto basso e quindi è una forma di investimento poco allettante sia per chi produce quindi per gli agricoltori sia per chi poi lo dovesse utilizzare. Chi ha degli impianti che funzionano alla legna ovviamente come detto prima gioca tirando l'acqua al suo mulino ovvero cercando di pagarla al meno possibile. Siccome il mercato lo fanno i grossi impianti e non i piccoli impianti è chiaro che la presenza di pochi grossi impianti tradizionalmente ha influenzato in maniera importante il prezzo al mercato di questo materiale. Come vedremo qui il fattore qualità è il fattore essenziale perché se il grande impianto può mangiarsi quasi qualunque tipo di biomassa garantendo una sostenibilità ambientale accettabile il medio piccolo impianto invece ci presenta uno scenario del tutto diverso ovvero la sostenibilità ambientale del piccolo e medio impianto che è poi quello che interessa a noi perché sono gli impianti che noi promuoviamo di più passa in maniera diretta e importantissima attraverso la qualità della biomassa che lo alimenta. Questo è uno degli elementi chiari. Dopo c'è l'elemento tecnologia, l'elemento filtri, tutto quello che vogliamo però l'elemento qualità della biomassa è l'elemento essenziale. Quanto più piccola è la taglia dell'impianto tanto più il fattore qualità diventa essenziale. Soprattutto per quanto riguarda le caldaie questo è legato come potete immaginare allo stesso processo di combustione. Quello a cui io devo aspirare è un processo di combustione quanto più possibile perfetto. Qualunque anomalia nella combustione porta con sé oltre a un minore rendimento anche un maggiore impatto ambientale. sull'aria. Poi dopo parliamo di profili di incentivazione. Questi sono un elemento importante perché sono una fetta importante della convenienza. Qua c'è poco da fare. In questo periodo poi tocchiamo con mano. Prezzo alla pompa oggi del gasolo e della benzina è un prezzo che molto spesso mette fuori mercato le piccole filiere delle biomasse. Quindi noi dobbiamo fare dei ragionamenti che vanno al di là di una valutazione monetaria semplice e che devono andare invece a valutare quelle che possono essere le ricadute sul territorio dell'utilizzo di questi prodotti. Qui parlo di valorizzazione dei servizi ambientali che sono appunto l'elemento più importante. Allora qui arrivo a un tema importante. Io posso produrre l'energia da legno con degli impianti dedicati. Significa che io prendo, faccio un impianto da legno oppure decido che un'area di bosco di mia pertinenza, di mia proprietà verrà destinata alla produzione di biomassa e cosa che solitamente non si fa perché dal bosco ovviamente ci si attende una produzione di maggior qualità ma la nostra pedemontana è sostanzialmente al 100% composta da cedui o da cedui invecchiati o da cedui abbandonati. Quindi parliamo di boschi che per secoli sono stati utilizzati per la produzione di biomassa. Diciamo che tutte le volte che io prelevo della biomassa di questo tipo ho ovviamente un reddito a fronte di un costo. Nella buona parte delle situazioni di questo tipo, quelle boschive quasi sempre, il recupero della biomassa marginale è sempre un recupero impegnativo da un punto di vista economico, se non altro per la morfologia dei nostri boschi. Noi non siamo in foresta nera dove abbiamo centinaia di miliardi di ettari quasi in piano o nel nord della Svezia dove posso lavorare con degli harvester che non si fermano mai né di giorno né di notte. Abbiamo delle situazioni dove la quantità di biomassa in gioco e i costi per portarla all'utilizzazione finale spesso mettono fuori gioco questa fonte. Ciò nonostante non bisogna nemmeno generalizzare, ci sono molte situazioni dove un'adeguata cantierizzazione forestale consentirà di portare fuori del materiale. Qui il gioco economico spesso sta nella gestione della filiera, se è una gestione dove io raccolgo, produco e vendo e c'è qualcuno che compra e brucia o comunque utilizza, è più difficile far tornare i conti. Se invece le parti sociali in gioco si mettono, scusate il gioco di parole, si mettono in gioco per utilizzare questa biodiversità, il ritorno economico diventa più interessante. È lo stesso esempio dell'autoconsumo, se io ho un boschetto e ho una stalla, per intende, sto facendo un esempio a caso e mi voglio riscaldare la casa, più magari la stalla nei periodi più freddi e metto una bella caldaia, a biomassa e compro la biomassa, probabilmente non ho nessuna convenienza, una caldaia a biomassa di ultima generazione ha un costo che varia da 2 a 4 volte quello di una caldaia di analoga potenza a metano, capite che uno dice ma perché devo spendere 2-3 volte quello che spenderei con metano, in un paese come il nostro che è il più metanizzato d'Europa, ormai voglio dire, metano arriva quasi dappertutto. Lo posso fare solo in alcuni, se il bosco però è mio e io mi recupero il materiale, lo metto in caldaia e faccio i conti, verifico che quello che utilizzo di fatto è una biomassa che mi dà un valore di sostituzione, non è un valore di mercato. Anche se io spendessi il 5% in meno alla fine di tutta la storia rispetto al gasolio o al metano a me converrebbe, mentre invece sul fronte del Dout Des di mercato spesso i conti non tornano e qui entrano in gioco gli incentivi da una parte e dall'altra la valorizzazione dei servizi ambientali che anche se non monetizzata dovrebbe essere ben presente nelle politiche di gestione del territorio, perché se io ho un impianto di cui che mi migliora alcuni parametri ambientali del mio territorio e in più mi produce un prodotto periodicamente che in qualche modo può essere monetizzato e che anche solamente vada a battermi i costi di gestione di questa struttura, io politicamente potrei anche fare un calcolo di convenienza a fare questa cosa. Ad esempio io realizzo un impianto di protezione da una grande arteria stradale o autostradale, piuttosto che una zona artigianale che mi dà un impatto sulla popolazione e io ottengo un risultato. Se poi da quella fascia boscata lì riesco anche a ritrarre della biomassa, commerciabile o utilizzabile, capite che il risultato diventa duplice. Ed è un po' di queste cose che adesso parleremo. Come vedete qua, alla fine in agricolo, qui si parte da un'immagine vista dal punto di vista dell'agricoltore, nel caso di un ricavo tradizionale, vedete che io ho sostanzialmente, voi sapete un'azienda tradizionale da noi ricava il suo reddito in una parte importante dalla politica agricola comunitaria oggi e in una parte, altrettanto importante, dalla vendita del prodotto. Sostanzialmente abbiamo due fonti di reddito sovrapposte. Attenzione che la famosa PAC da noi è una politica che negli anni è andata sempre di più a premiare le attività cosiddette agroambientali e mano a mano a ridurre quelli che sono i cosiddetti premi unici, prima legati alla cultura, poi alla superficie. E così è un processo, questo che non si arresterà anche con il nuovo ciclo di politica agricola comunitaria. Comunque quello è il reddito dell'agricoltore. Nel caso di un impianto polifunzionale per la produzione di energia vedete che invece la fonte di reddito è un pochino diversa. Abbiamo ancora la politica agricola comunitaria perché molti di questi impianti sono finanziabili con delle misure della PAC. Abbiamo il prodotto perché comunque il legno è un prodotto o commerciabile o valorizzabile in autoconsumo. Abbiamo un valore di servizio perché io sto gestendo un'area che ha un impatto ambientale quasi sempre migliore rispetto a una cultura tradizionale. E poi ho evidentemente un contributo a cultura energetica. Poniamo che io acceda ad esempio a un conto calore perché ho la mia caldaia e quindi ho un'entrata anche da quel punto di vista lì. Vedete quindi che il reddito è un po' più articolato e si può giocare un po' di più su tutti questi parametri. Parliamo di un reddito potenzialmente più alto comunque se uno gioca bene su tutti questi fattori. Ecco, gli impianti multifunzione sono una possibile soluzione interessante per cercare di lavorare bene su tutti questi componenti del reddito e per avere un vantaggio reciproco sia sul fronte dell'agricoltore che produce la massa, sia sul fronte di chi la utilizza, sia sul fronte delle amministrazioni, sia su quello dei cittadini. Noi abbiamo fatto diverse esperienze in questo campo e ne cito, qui ne sono citate quattro, adesso vado ad approfondirne alcune di queste. Di tutte queste avete già scritto a parlare, se non altro leggendo i giornali. Adesso spero di darvi qualche informazione in più rispetto a quella che si è in qualche modo letta o assorbita con la lettura della stampa, che comunque auspico sempre che si faccia, leggere i giornali è sempre una cosa positiva. Un tema è quello delle fasce tampone boscate, si intende per fascia tampone boscata un'area non necessariamente lineare, ma tendenzialmente lineare, che consente di migliorare la qualità dell'acqua in entrata e avere un'acqua qualitativamente superiore in uscita dal sistema. Si chiamano fasce tampone per questo, si basano su delle teorie e su delle sperimentazioni che ormai sono decenni che vengono svolte in tutto il mondo. Devo dire che noi in Italia e nel Veneto in particolare ci siamo freggiati di essere probabilmente fra quelli in Europa che hanno lavorato di più su questo tema. Quindi possiamo veramente dire la nostra, una volta tanto. Qualcuno ha detto che le fasce boscate, il filtro depurante presente nella provincia di Venezia, che sono state gestite di comune accordo tra Veneto Agricoltura e il consorzio di bonifica ora a cui risorgive, siano uniche. Adesso qualcuno l'ha sparata, ma chi l'ha sparata è un luminare, uniche al mondo. Non è così. Sicuramente in Europa non ci sono molte esperienze di questo tipo. Lì parliamo di 30 ettari dedicati al finissaggio delle acque provenienti dal fiume zero, che vengono derivate dal fiume, passano attraverso una fascia boscata, adesso vedremo come, e restituite poi al fiume. Quindi parliamo di fasce tampone boscate. Il tipo di inquinamento su cui agiscono queste fasce è primariamente un inquinamento diffuso di origine agricola o urbana, ma primariamente agricola, perché tipicamente i nutrienti di origine agricola dovuti all'apporto di nutrienti con le concimazioni sono poi fonte di inquinamento in laguna, voi sapete, le alghe, le fioriture, eccetera. In realtà queste fasce hanno anche un effetto positivo su altri elementi, per esempio gli anticritogamici, e ci sono molti studi sull'effetto delle specie legnose anche a carico di alcuni inquinanti di tipo industriale. Non parleremo di questo perché lì parliamo di impianti di depurazione in aree industriali e siamo un po' fuori tema, però sappiate che vi sono molti studi anche in questo campo, ad esempio sul trattenimento di metalli pesanti, eccetera. Secondo tema è quello delle aree forestali di infiltrazione, tema che è stato fonte di polemiche abbastanza al calor bianco, proprio qua in provincia di Vicenza, d'altra parte è anche vero che la provincia di Vicenza è stata leader, è stata la provincia che ha ospitato questi esperimenti, quindi sarebbe stato difficile che le polemiche nascessero in aree dove le aree di infiltrazione non esistevano. Le aree di infiltrazione ci sono, sono alcune piccole aree su cui abbiamo fatto diversi anni di sperimentazione e abbiamo una conoscenza piuttosto approfondita, che qui lo dico senza tema dismentita, si allontana di molto da quello che è stato riportato dalla stampa. Cioè la realtà dei dati è diversa da quella che abbiamo letto tutti. Su alcune cose sono più sfumato, su altre sono più deciso. Vi sono poi le cosiddette aree dell'umilionamento programmato che ci vediamo molto brevemente, che sono una variante delle cosiddette casse di espansione. Mentre la cassa di espansione è una struttura ingegneristica studiata per ricevere le acque e che ha quindi anche un costo di realizzazione e di gestione e di accettazione sociale piuttosto elevato, perché io sottago ampie aree al territorio per destinarle a questa importantissima funzione comunque. Nel caso dell'area dell'umilionamento programmato si tratta di aree che vengono interessate da opere molto più limitate e che sono aree che semplicemente tramite accordi bilaterali con i proprietari possono essere soggette ad alluvionamento in caso di situazioni meteorologiche avverse e eccezionali. Un certo ciclo di eliminazione? Sì, ovunque non c'è, perché un conto è fare degli espropri, prendere della terra, un conto è dire tu hai un campo, io faccio un piccolo arginello da questa parte, se il fiume mi va sopra in maniera eccezionale sappi che il tuo campo andrà sotto, ok? Bene, io questo servizio, perché io sto mettendo a disposizione il mio campo, questo servizio te lo pago un tot all'anno, tu sai che ogni 10, 12, se sei fortunato, se sei sfortunato magari anche più frequentemente, perché purtroppo questo campo andrà sotto, quell'anno lì perderai raccolto, uno si fa i suoi conti e decide cosa fare. È chiaro che noi abbiamo studiato queste soluzioni perché queste soluzioni si prestano moltissimo proprio alla gestione di aree per la produzione di biomassa, perché un impianto di short rotation magari quinquennale o decennale soffre molto meno di un alluvionamento periodico rispetto a un campo di maisto, io perdo completamente la produzione e quindi le due cose vanno abbastanza di pari passo. È chiaro che il costo sociale di quelle soluzioni lì è molto inferiore a quello delle casse di espansione, anche se la logica ovviamente non è che una cosa esclude l'altra, qui c'è bisogno di tutte e due le cose in realtà, c'è bisogno di una serie di casse di espansione e presumibilmente sarebbe utile avere anche una rete di aree di questo tipo, le due cose insieme darebbero una spinta importante alla gestione un po' meno critica delle acque nel nostro territorio. Un altro tema che approfondirò brevemente, un po' meno brevemente, è quello delle fasce boscate di mitigazione lungo le strade e le autostrade, che sono un altro sito molto favorevole per la produzione di biomassa legnosa e dove evidentemente è chiaro a tutti che si abbina anche una funzione di tipo ambientale e sociale. E su questa anche abbiamo delle esperienze molto interessanti che vedrete, che sono state realizzate sia su un brevissimo tratto della strada della Valdastico, dopo il casello di Dueville venendo verso Tiene, verso Pione e Rocchette, sulla destra, voi vedete una breve, circa un chilometro neanche forse, una breve fascia boscata, quella è stata realizzata, sembra un bosco naturale, ma è stata realizzata da mano umana, dentro è su un bancone del vivaio forestale di Montecchio Precalcino, che è in gestione a Veneto agricoltura, ed è stata la prima fascia boscata lungo l'autostrada realizzata come sperimentazione nel Veneto. C'è un altro chilometro e mezzo che è stato realizzato sul passante di Mestre, è un po' evoluto rispetto a questo modello di Piovene di Dueville, perché come potete immaginare si progetta, si sperimenta e dopo si progetta di nuovo facendo tesoro dell'esperienza. Quindi le fasce boscate che abbiamo realizzato sul passante sono un po' diverse da queste e stiamo ragionando adesso nuovamente sul passante, perché a distanza di anni abbiamo la soddisfazione di venire interpellati, perché evidentemente certe soluzioni che si erano ipotizzate, conti alla mano, sono migliori di alcune soluzioni che invece sono state praticate. Allora, short rotation forest ed acqua negli ambienti planiziali. Allora io faccio un breve discorso su questo discorso delle short rotation forestry perché è un tema importante da un punto di vista tecnico. Produrre biomassa dal legno significa evidentemente avere una quantità elevata di legno in poco tempo, perché se io ho delle specie che crescono tanto e mi danno tanta massa in poco tempo, ovviamente ho un vantaggio economico. Le specie che tipicamente producono legni duri, interessanti, da potenza della combustione, quelle che compongono i nostri cerchi di montagna per intendersi, sono specie che hanno dei turni piuttosto lunghi, viaggiamo intorno ai 12, 15, 20, quando non di più anni. È chiaro che in un contesto di gestione forestale pianificata, e qui attenzione è fondamentale il discorso della pianificazione forestale e non ancora si è compreso molto questo, in Italia lo si comprende sempre meno perché in Italia purtroppo i profili pianificatori, come ho detto all'inizio, sono brevi, la pianificazione forestale invece ha tempi lunghi o lunghissimi, cioè io devo scrivere oggi quello che penso che succederà fra 50 anni o fra 100 anni. Pensate che i piani di gestione del Pino Laricio Corsicano in Corsica prevedono un turno per alcune aree di 200 anni. Io vi assicuro che ogni anno le squadre di forestali corse, non dico francesi, sono francesi, entrano in bosco e buttano giù piante che da noi ci sarebbe gente che si incatena, buttano giù piante di 200 anni, perché è previsto da piano. L'anno dopo entrano, se non proprio l'anno dopo, e buttano giù altre piante di 200 anni, ovvero il bosco tutti gli anni ha un certo numero di piante di quell'età da tagliare. Loro non si preoccupano di tagliarne perché il bosco continua a rigenerare materiale e sempre c'è del materiale che ha quell'età lì. Il ceduo ha dei tempi molto più brevi evidentemente, però il poter gestire il nostro territorio con dei piani di assestamento e con dei piani di utilizzo che tutte le proprietà forestali dovrebbero avere, ma non tutte hanno, garantisce evidentemente un'utilizzazione ottimale di questa risorsa. Cosa significa? Che in un bosco assestato, anche se il carpino bianco ha un turno di 20-25 anni, da ceduo, per intendersi il carpino nero, ogni anno entro e mi porto via quello che mi serve, perché porto via da un pezzo, poi da un altro, secondo le regole dell'assestamento forestale, evitando tra l'altro interventi drastici che invece avrebbero un impatto anche dal punto di vista idrogeologico più importante. Le short rotation invece, il nome stesso lo dice, sono impianti artificiali realizzati per avere un turno breve, corta rotazione. Corta rotazione vuol dire che ogni pochi anni taglio. Questi sono impianti realizzati di solito con una specie a veloce crescimento, le specie principe per questi impianti qua sono i pioppi e i salici, esiste un'esperienza anche con molte altre specie, ma direi che queste sono quelle che... Con la canna. Sì, anche con la canna, ma io adesso sto citando le specie arbore, però ci sono tutta una serie di specie dedicate, c'è la canna, l'arundo, c'è il miscanto, ci sono tutta una serie di culture dedicate, però lì la cultura dedicata alla biomassa, se volete poi ne impariamo brevemente, abbiamo fatto parecchi studi su questo, bisogna capire cosa è teoria e cosa è pratica, ovvero sapere che il miscanto è una specie che produce tantissimo, o la canna e che è molto interessante, non vuol dire che io pianifico di fare centinaia di ettari di canna sul mio territorio, devo fare una serie di altre valutazioni, sia di tipo tecnico, perché non tutte queste biomassa poi sono facili da utilizzare negli impianti, faccio l'esempio della canna, la canna è molto interessante, però insieme al miscanto sono specie che producono una gran quantità di ceneri, hanno un contenuto in silicio molto elevato, quindi portano a una usura delle caldaie piuttosto veloce, quindi si sta studiando su come utilizzare al meglio questi prodotti. Noi cerchiamo di favorire il legno perché il legno è più facilmente, il legno intendo le specie arboree e arbustive perché sono più facilmente inseribili nel nostro territorio in maniera non impattante dal punto di vista paesaggistico che è proprio anche ambientale della biodiversità eccetera, però esistono e come le altre cotture dedicate. D'altra parte una short rotation di pioppo biennale è uguale a una pianta di canna, vuol dire è una pianta totalmente artificiale. Ecco noi abbiamo un po' identificato la cosiddetta short rotation forestry con quelle cose che voi vedete in giro ogni tanto, coi pioppi fittissimi che ogni due anni vengono tagliati. La short rotation biennale è una delle tante forme di short rotation ed è una forma che ha preso piede ancora negli anni 70 un po' in Nord America, un po' in Nord Europa, lì hanno fatto parecchie sperimentazioni, qui faccio una piccola polemica, se ha preso piede negli anni 70 in queste due aree dove hanno investito tanto in ricerca e adesso lo fanno così in pochi lì ci sarà un motivo evidentemente. In realtà la short rotation biennale è un sistema quasi industriale di produrre biomassa ed è un sistema che prevede una scansione dei tempi e delle tecniche assolutamente rigoroso da cui non si può minimamente sgarrare, cosa che è molto difficilmente gestibile a livello di un'azienda agricola nostra, perché un'azienda agricola che pianta un biennale di pioppo può avere mille motivi per cui al secondo anno non può entrare a tagliare. Piove troppo, non ha la disponibilità delle macchine, ha altre cose da fare, è fuori coi conti e non riesce a chiamare il terzista per fare il lavoro, semplicemente ha altre cose più importanti o più redditizie da fare. Il risultato è che questi impianti qua, quando realizzati da noi, complice anche la scarsità di attrezzature per trattarli, di macchine che tagliano la short rotation specializzate in Italia, fino all'anno scorso ce ne erano credo 5 in tutta Italia, capite che diventa un oligopolio delle attrezzature per cui sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista dell'utilizzo diventa complicato poi utilizzare. Il problema del pioppo biennale è che se io pianto con le tecniche della short biennale e non taglio il secondo anno, vado incontro a guai grossi, nel senso che i cantieri che utilizzano quel materiale lì non possono più essere applicati dopo il terzo anno di età di queste piante. Bisogna passare a un cantiere di tipo forestale e voi capite che tagliare una pianta ogni 5-6 metri con un cantiere forestale è un conto, tagliare una pianta grande così ogni 50 cm significa che per tagliare quell'impianto lì io ci metto un mese e l'ipotetico guadagno me lo sono ampiamente fumato, quindi il motivo per cui il biennale di pioppo ha avuto e riscontra delle problematiche è essenzialmente legato a questi fattori qua, oltre al fatto che il cipato di pioppo industriale ha sempre avuto un profilo di prezzo, di valore sul mercato piuttosto basso e quindi poco interessante per chi lo produce. Le tipologie più moderni di impianto specializzato prevedono ancora l'uso del pioppo però su modelli più larghi, cosiddetti modelli quinquennali con turno 5-6 anni, ho detto con un cantiere forestale, il cantiere forestale prevede l'uso di cesoi o di macchine comunque meccanizzato ma ha il grossissimo vantaggio che io il pioppo lo posso tagliare a 5 anni, lo posso tagliare anche a 4, ma se lo lascio lì fino a 7-8-9 anni lo posso tagliare lo stesso, perché le stesse macchine mi tagliano il fuso da 5 anni come quello da 6-7 anni. D'altra parte chiudo con una notazione più da forestale, il turno fisiocratico, cioè quello che massimizza le entrate del pioppo è intorno agli 11-12 anni, non a caso i pioppeti quelli da cellulosa li tagliano a 12 anni, allora non si capisce perché io devo tagliare una pianta a 2 anni quando la sua curva di accrescimento è ancora a dir poco immatura, le curve di accrescimento di queste piante qua come sapete sono delle curve sostanzialmente che vanno sintoticamente a crescere e poi dopo si stabilizzano dopo una certa età, si cerca di tagliare o quando l'incremento è massimo o quando la massa è massima, si può fare una di queste due scelte qua, se io taglio al secondo anno la curva di accrescimento non ha ancora preso sostanzialmente la sua, quindi il quinto anno è già, porto a casa molta più massa sostanzialmente. Togliamo, usate questa digressione lunga ma era per chiarire cosa vuol dire short rotation forest, su scala europea e mondiale per short rotation si intende un impianto artificiale realizzato per la produzione di biomassa con turno che può variare da 2 fino anche a 15 anni, quindi un impianto con turno di 10 anni è ancora una short rotation perché i turni delle piante forestali usualmente viaggiano ben oltre i 20-25 anni, quindi parliamo sempre di ciclo vero. L'importante di queste cose è che gli alberi hanno un grosso vantaggio oltre a quello di produrre più massa, che interagiscono in maniera molto positiva con l'ambiente circostante. Secondo tutta una serie di parametri ambientali, direi quasi tutti che sono l'ambiente, interagiscono positivamente sulla qualità dell'aria, interagiscono positivamente sul terreno, sulla sostanza organica nel terreno, interagiscono positivamente sulle acque, sulla qualità delle acque e noi cerchiamo di utilizzare questi fattori qua per ottenere degli impianti che svolgano dei buoni, una buona funzione. Ecco, avevamo parlato di dopo, vedete le immagini sono, vi destivo brevemente, a sinistra vedete, vedrete poi meglio, una area di infiltrazione nel momento della sua realizzazione, prima ancora dell'impianto delle piante, nel centro vedete una macchina contestata modificata, la classica macchina combinata per il taglio della short rotation biennale, la macchina passa come se fosse una metitrebbia, taglia, cippa direttamente e manda il cippato su carro, quindi quello è un cippato fresco che poi andrà essiccato su una piattaforma di essiccazione. Nell'ultima figura destra invece vedete uno schema che in generale mostra i meccanismi di nitrificazione, ovvero le capacità che hanno le piante forestali di abbattere i nutrienti, i nitrati in particolari presenti nelle acque, nel sottosuolo o al suolo. Ecco qua, da un impianto forestale si possono ottenere essenzialmente due tipi di biomassa, due tipi di assortimenti, uno è la legna d'ardere e l'altro è il cippato di legna di qualità, il cippato di legna non di qualità non lo considero neanche perché non bisognerebbe proprio produrlo. Lì è poi un altro tipo di materiale che è di scatto, che è quello che proviene dagli scatti, dalle ramaglie e aggiungo anche ovviamente dalla risulta dei cantieri forestali in montagna, che comunque si traduce in ramaglie. C'è un grande interesse sul tema dell'utilizzo degli scatti, noi ci stiamo ragionando, ci darò poi un progetto che sta partendo proprio adesso e che potrebbe interessare proprio voi perché riguarda un gruppo di comuni non distantissimo da qua e su cui stiamo ragionando appunto del recupero della biomassa anche dal bosco. Il problema grosso degli scatti e delle ramaglie è duplice, uno è di tipo tecnico, questo materiale in fase di combustione non crea tanto dei problemi a bruciare, crea dei problemi perché la quantità percentuale di corteccia rispetto al legno è maggiore e la parte di corteccia dà origine solitamente a una quantità di cenere superiore, quindi bruciando quel materiale lì ho una grande quantità di scatto in cenere che come ben sapete poi dopo deve essere in qualche modo smaltito, oltre a creare ovviamente un maggior costo di gestione dell'impianto. Si suggerisce sempre quando si utilizzano questo tipo di scatti di miscelarli con del cippato di maggiore qualità oppure di utilizzarli in impianti di taglia medio grande dove comunque la combustione è a temperatura più elevata e la gestione delle ceneri gioco forza bisogna farla perché se ho la mia caldaietta ogni due ore devo tirare fuori la cenere è un conto, se ho un grosso impianto di solito ci sono gli estrattori automatici di cenere e quindi mi sono già posto il problema di cosa fare nella cenere. Anche lì il tema però sarebbe molto lungo da discutere perché entriamo ad esempio nel campo del riciclo degli scatti di alcune produzioni importanti come quelle del vigneto e lì se volete poi ne possiamo parlare, le sermenti del vigneto hanno questi tipi di problemi, però è anche vero che la quantità di questo materiale che è necessaria in qualche modo ogni anno in qualche modo smaltire è talmente alta che soluzioni di tipo energetico sono comunque auspicabili rispetto a quelle praticate oggi che sono sostanzialmente la bruciatura diretta. Su queste cose qua abbiamo fatto delle ricerche e si continua a ricercare e le ipotesi che abbiamo fatto noi è di mettere in piedi delle filiere controllate dove ARPAV faccia un monitoraggio in continuo perché le prove che abbiamo fatto ci hanno dato dei risultati abbastanza confortanti ovvero purtroppo quei materiali lì soprattutto i trattamenti non tanto anti-critogamici ma i rami, i metalli pesanti vanno ad accumularsi sul suolo non tanto sul legno. Nel momento noi abbiamo fatto l'analisi delle ceneri e del legno, l'ha fatto ARPAV e non abbiamo trovato dei grandi quantitativi di questo tipo, sono tutti sotto soglia di legge. Però ciò nonostante siccome chiaramente io non posso sapere il vigneto come è stato trattato, si va da una gamma dal vigneto biologico fino a quello dove magari c'è un disgraziato che tratta ogni due giorni. Lì il tema è quello del monitoraggio continuo, bisogna ovviamente sapere quello che sto bruciando, noi non ci sentiamo di proporre una filiera se non abbiamo fatto prima dell'analisi di questo tipo. Abbiamo un progetto che si è completato e quindi un po' di dati ce li abbiamo. Il progetto ci ha mostrato appunto un impatto non importante e non ce l'aspettavamo onestamente perché eravamo partiti con l'idea di trovare maggiori residui. Comunque è chiaro che, parliamoci chiaro, qua parliamo di scenari, qui di scenari ce ne sono tre. Uno, il sarmento lo brucio e l'immissione in atmosfera è ovviamente la peggiore che possiamo immaginarci perché non ho solo gli anticritogamici ma ho anche le diossine, tutto quello che succede quando ho una combustione a cielo aperto. Due, faccio una combustione controllata in una caldaia di ultima generazione, ho dei filtri, ho un controllo della combustione quindi ho un impatto molto inferiore monitorando i fattori che lei ha citato e il terzo è portare la roba in discarica, così falliscono tutte le cantine. A me spiace essere un po' drastico su queste cose ma noi dobbiamo finirla di ragionare per assoluto, dobbiamo ragionare di scenari. Il mio lavoro è sostituire a uno scenario uno scenario migliore e dopo domani ne avremo uno ancora migliore. Quello è l'obiettivo. Non possiamo immaginare di non avere più energia o di avere l'energia pulita. L'energia pulita della serie no emission non esiste, purtroppo non esiste. Anche solo respirando noi stiamo inquinando l'atmosfera che ci sta intorno. Siamo fatti così. Quindi bisogna essere abbastanza chiari su questa cosa qua. Dopodiché è chiaro che prima di dire bruciamo tonnellate di sarmenti mi pongo il problema di essere sicuro che questo materiale abbia una rilevanza sulla qualità dell'aria sostenibile, se non altro secondo i parametri di legge, perché quelli sono obbligatori che possiamo sgarrare. Nelle fasce tampone boscata si verifica invece un fenomeno qui che è abbastanza interessante che è questo. Io adesso tiro avanti su queste cose. Dopo la pausa caffè ovviamente mi auguro che qualcuno di voi abbia osservazioni o domande. La cosa interessante è che si era già scoperta studiando soprattutto le aree umide, cioè a livello mondiale c'è una enorme bibliografia sulla capacità depurante delle aree umide, delle paludi per intendersi. Da dove il bosco è un bosco allagato in presenza quindi di acqua si era notato che c'è un'attività di depurazione dell'acqua circostante. Noi siamo partiti da questa bibliografia scientifica e abbiamo provato a immaginare di creare noi le condizioni perché questo si verificasse. Questo avviene perché immaginando che io ho dell'acqua che attraversa le radici delle piante arboree, anche delle piante erbacee, questo avviene per qualunque tipo di pianta verde. L'attraversamento di acqua carica di nutrienti, immaginiamo quindi le nostre acque cariche di concimi che poi arrivano sui fiumi, poi arrivano in laguna e al mare con tutte le problematiche che ben conosciamo, le piante hanno in realtà, svolgono un ruolo attivo. Il ruolo attivo sostanzialmente è di tipo diretto e di tipo indiretto. Siamo abituati a immaginare che se io do un'acqua molto concimata a una pianta, questa qua si mangia l'azotto, perché l'azotto come sapete favorisce la nutrizione della pianta e quindi la produzione di massa e quindi mi mangia l'azotto e in questo senso qua lo abbatte. Questo è un fenomeno sicuramente importante, ma che viene ampiamente superato da un fenomeno meno conosciuto che riguarda invece i consorzi batterici presenti sulle radici delle piante arboree. Le piante arboree ospitano una enorme quantità di batteri, perché i batteri per farla semplice si nutrono, anche alcuni batteri degli stessi nitrati che nutrono le piante, ma hanno il grosso vantaggio che per poter vivere hanno bisogno di carbonio. Dove lo trovano il carbonio come energia? La trovano laddove c'è una produzione di biomassa importante. Tipicamente nel bosco, nelle fasce boscate, la produzione di foglie da parte delle piante e quindi la caduta delle foglie a terra con la loro disgregazione, mette a disposizione sufficiente carbonio e i batteri per vivere. È il motivo per cui su un terreno nudo invece non ci sono questi batteri qua. Questi batteri vivono a ridosso delle radici delle piante proprio perché possono nutrirsi della sostanza organica prodotta dalle piante stesse. In questo senso il bosco è più efficace del prato, perché evidentemente la litiera prodotta e il carbonio disponibile è molto di più. Il risultato qual è? Che abbiamo una quantità enorme di batteri cosiddetti denitrificanti, ce ne sono molte famiglie, che trasformano l'azoto da nitrato tramite una serie di passaggi fino ad azoto atmosferico, che come sapete è il componente naturale numero uno della nostra atmosfera. Quindi, oltre ovviamente, come sapete, con la fotosintesi, l'altro due ossigeno, eccetera. Quindi abbiamo un effetto globalmente positivo. Ecco, questo tipo di analisi non l'abbiamo fatta su delle fasce realizzate in questo modo, oppure in questo modo. Abbiamo le cosiddette fasce tempori dirette e quelle inverse, ovvero nella fascia diretta ho il corso d'acqua in una posizione depressa rispetto ai campi circostanti, l'acqua di irrigazione o della pioggia, attraverso il terreno e le radici delle piante coltivate, arriva sulla fascia boscata e prima di finire nel canale, nel fosso o nel fiume, attraverso gli apparati radicali del bosco, della fascia boscata. E in questa fase avviene l'abbattimento dei nitrati. Nella secondo caso, invece ho un'attività indiretta, cioè io prelevo l'acqua da un corpo idrico, potenzialmente inquinato con nitrati, la trasferisco a una fascia boscata che è strutturata appositamente e gli faccio attraversare le radici e poi recupero l'acqua e la ributto nel fiume. Mi sembra complicato, però se ci pensate, sono i meccanismi che si usano in tutta la nostra bassa pianura per gestire le acque, perché nell'area irrigue non facciamo altro che pompare acqua da una parte all'altra con l'idrovole da tutte le parti, quindi non è che sia una tecnica, sono tecniche che noi non conosciamo bene. E questo avviene in tutte le situazioni in cui non vi è un contatto diretto, un passaggio diretto dal campo verso il corso dell'acqua. È chiaro che le prime soluzioni sono quelle più auspicabili perché hanno un costo di gestione molto inferiore. Ma la sperimentazione non l'abbiamo fatta in un caso come quello che vedete sotto, perché quello ha il grosso vantaggio che io ho sotto controllo tutti i parametri. So quanta acqua pompo dentro, posso misurare quanta ne va fuori, posso misurare l'azoto in tutti i punti, quindi è come laboratorio a cielo aperto, mi va benissimo. Nell'altra situazione è molto più complicata fare queste misurazioni. Torno un orologio, 4 e mezzo facendo appare. Ecco qua, questa è un'altra immagine che mostra come succedono queste cose. È chiaro che qui i fattori essenziali sono quanto tempo l'acqua permane a contatto con le radici e l'altro fattore importante è la presenza di acqua a contatto con le radici, ovvero questi batteri qua lavorano in anaerobiosi, in assenza di ossigeno, o meglio, lavorano bene quando c'è alternanza fra ossigeno e non ossigeno, che è tipicamente la parte dove il pelo libero della falda sotto sostanzialmente. È chiaro che in presenza di terreni abbastanza compatti l'acqua penetra nel terreno e ha dei movimenti orizzontali, mentre in presenza di terreni molto drenanti, come vedremo nell'alta pianura vostra, l'acqua non ha questi movimenti laterali ma primariamente ha dei movimenti verticali, ovvero tende a drenare e a finire in falda direttamente. Se avete domande poi, ecco, questo invece è l'esempio delle fasce forestali di infiltrazione, le cosiddette aree forestali di infiltrazione, che funzionano così essenzialmente, si prende l'acqua da un fosso già esistente, i sistemi idrici dell'alta pianura prevedono che l'acqua venga o intubata e utilizzata per l'irrigazione, oppure gestita tramite una rete superficiale di fossi e di rogge che portano via via l'acqua ai fiumi principali e poi evidentemente verso sud, quindi verso la bassa pianura. Nei sistemi tradizionali di gestione agricola, voi sapete, queste erano aree dove la faceva da padrone l'irrigazione a scorrimento. L'irrigazione a scorrimento per molti anni è stata il tipo di irrigazione principale, soprattutto nelle aree dei prati, eccetera, poi per una questione legata alla disponibilità di acqua si è via via tentato di eliminare questo tipo di soluzioni, intubando l'acqua e creando le reti di irrigue attuali, in molti dei nostri consorsi di bonifica gestiscono dei tubi in pressione, l'acqua viene derivata dai fiumi, inserita nei tubi in pressione e viene utilizzata durante la stagione di irrigua per irrigare. È chiaro che in questo modo io in qualche modo intercetto l'acqua e ottimizzo l'utilizzo irriguo dell'acqua stessa, però vado a eliminare un fattore tradizionale di ricarica delle falde acquifere, perché tramite l'irrigazione a scorrimento io andavo a irrigare i campi e una quota importante di quell'acqua lì andava tra virgolette sprecata nel senso che finiva dentro il rifalda. Noi abbiamo cominciato a ragionare di sistema globale, cioè il sistema globale è un sistema dove non è che ci sia uno spreco o una, l'importante è intercettare l'acqua quando ci serve e non averla tra i piedi quando non ci serve, questo è il concetto di fondo. La prima cosa è più facile e la seconda un po' meno. In queste soluzioni cosa succede? Io derivo l'acqua da un fosso, in periodo non irriguo, quell'acqua lì che fine farebbe, finirebbe in un grande fiume, potremmo il Brenta piuttosto che in altre zone, l'Ades eccetera, e finirebbe al mare quasi direttamente. In questo modo l'acqua viene sottratta dal terreno e sottratta dalla falda, cioè quell'acqua lì non finirà mai in falda, soprattutto se parliamo di canali rivestiti ovviamente. Se parliamo di canali invece naturali, tra virgolette, a fondo naturale c'è comunque una certa dispersione. È chiaro che non tutta l'acqua dispersa finisce in falda, alcuna parte di questa finisce nuovamente nei fiumi, il sistema è complesso ma sto semplificando molto. Noi abbiamo sotto i piedi questo enorme lago, perché qua in Andapianura la falda è indifferenziata, non è una falda in pressione, che oscilla a seconda dell'andamento climatico e delle stagioni, perché in alcuni anni può esserci più acqua derivata dalle nevicate in montagna, in altri anni può piovere di più in certi periodi eccetera, ma è una falda oscillante, ovvero è una falda che risponde in maniera abbastanza evidente all'andamento meteorologico, che purtroppo in questi ultimi anni, come sapete, ha mostrato delle anomalie evidenti rispetto ai tempi di ritorno degli eventi eccezionali a cui eravamo abituati. È chiaro che peraltro noi abbiamo un problema di fondo, cioè perché fare queste aree? Sono state realizzate perché si è cercato di mettere una piccola pezza su un problema grosso, prima che lo allago di nuovo, mettere una piccola pezza su un problema molto grosso, perché in realtà negli ultimi decenni la tendenza complessiva del livello di falda è stata una tendenza di netta diminuzione. Se voi guardate però i grafici di falda, basta contattare il centro idrico di Novoledo che da decenni sta misurando le falde, noi vediamo che ovviamente non è un calo regolare, è un calo a dente di sega, cioè vi sono degli anni con dei picchi di disponibilità idrica elevata seguiti magari da anni dove invece non c'è acqua. Guardate che gli ultimi anni in cui abbiamo avuto tutti i problemi, ci sono stati tutti i problemi anche nell'altro vicentino di alluvioni, sono seguiti a una serie veramente notevole di anni dove sono andate asciutte quasi metà delle risorgive, cioè non c'era più acqua. Siccome la tendenza è quella alla diminuzione dell'acqua e le previsioni purtroppo anche in uno scenario di cambiamento climatico fanno pensare proprio a una sempre maggiore carenza di disponibilità idrica e aggiungendo a questo il fatto che le acque che si producono qua sono acque che vengono utilizzate da mezza regione, perché le stesse acque che si producono nell'alto vicentino vanno a finire a Padova, vanno a finire giù nel Rodigino, eccetera, senza contare i prelievi in loco, noi abbiamo una pressione notevole su queste faglie, l'idea dell'area di infiltrazione non è altro che una restituzione di una quota di acqua che noi abbiamo prelevato, cioè perché prima citavo un po' gli articoli di giornale? Perché è onestamente ridicolo pensare che con delle opere di questo tipo noi possiamo sensibilmente influenzare il livello di milioni e milioni e milioni di metri cubi di falda, noi andiamo a compensare una parte dei prelievi e degli utilizzi che noi facciamo sostanzialmente, non possiamo con questo sistema combattere il cambiamento climatico, sia chiaro perché se no sarebbe anche troppo bello, purtroppo non è così. Dopodiché purtroppo succede questo, che se per anni e anni le falde sono molto basse, è una vera pacchia, nel senso che posso costruire, posso fare, posso fare tutto quello che voglio, i miei cantieri non pompano niente perché posso scavare le fondamenta, non succede niente, eccetera, anche in zone magari di risorgiva dove l'acqua storicamente nei periodi di forte piovosità sfiora il livello del terreno. È chiaro che se a questo periodo di siccità del sottosuolo segue un periodo di picco, alla fine purtroppo si tira un totale e il totale non è tanto gradevole da vedere. Quindi parliamoci chiaro, non solo non è vero ma sfiora il ridicolo quello che si è letto che il progetto Life Accord sulla ricarica delle risorgive ha provocato le alluvioni nell'atto vicentino. È una cosa che onestamente nel mondo scientifico, cioè potrebbe finire su una barzelletta della settimana linguistica, per essere esplicita. Abbiamo parlato qui due o tre settimane fatti, non l'ha fatto, forfetto. Ah ecco, benissimo, è stato già fatto. Noi siamo partner, chi è venuto a parlare? La Muraro? Chi? La dottoressa Muraro della provincia? No. Usman? Vabbè, chi è? Chi sarà Marco. Buona sostanza? Sì, è erbissimo. È erbissimo. Quindi queste cose le avrete già sentite dire in parte da voi, però in buona sostanza queste sono aree che funzionano. Tornando a noi, queste aree qua però ci hanno dato un suggerimento, cioè nel momento in cui ho realizzato un intervento del genere è chiaro che il campo è sottratto all'agricoltura tradizionale, no? Cosa posso fare per migliorare la qualità dell'acqua e aggiungere un reddito a queste aree se non metterci degli alberi? E da lì nasce l'idea della fascia forestale di infiltrazione, che è una delle possibilità di ricaricare la falda. Poi ci sono i pozzi, eccetera. Ma questa qua è, secondo noi, quella più ecosostenibile perché consente di gestire dei piccoli boschetti che anche da potenza paesaggistico, tra l'altro, se voi andate a vederle, sono, adesso qua non parlo da forestale, non posso parlare d'architetto perché non lo sono, però in una logica di territorio dell'alta pianura dove le siepi erano parte del paesaggio tradizionale, i boschetti pure e la rete di fossi come questa è una caratteristica di tutta l'alta pianura, io qua non sto facendo altro che facendo una specie di vetrinetta, consentitemi il termine, della storia del territorio dell'Alto Vicentino realizzando un intervento di questo tipo, perché ho l'acqua che corre, è meraviglioso vedere funzionare questa, avete una situazione ambientale veramente spettacolare. E in più ho le rive da cui ritrago la legna, solo che qua sono realizzate in modo razionale, quindi è possibile meccanizzarle e tirare fuori il legno a un costo più sostenibile. Questa è appena piantata, come vedete, qui è con le piantine ancora giovani e questo è dopo, credo neanche due anni dall'impianto. Il pioppo, in questo caso abbiamo pioppi, platani, abbiamo provato diverse specie sostanzialmente per vedere quali potevano rispondere meglio a questo tipo di gestione, che è difficile per la pianta forestale, perché attenzione queste aree qua prevedono che l'acqua ci sia, anche qui, bisogna ragionare su questo, perché qui l'acqua c'è ovviamente in periodo non irriguo, perché quando parte il periodo irriguo il consorzio intuba tutto perché gli serve per irrigare e quindi le manda in asciutta. Quindi queste piante qua devono essere in grado di sopportare un periodo di siccità piuttosto lungo, per di più nel periodo più caldo dell'anno. Nel contempo però devono essere in grado di sopportare un parziale alluvionamento, chiamiamolo così, delle radici, anche se come vedremo fra poco, qui rispetto all'esempio che ho fatto prima delle fasce tampone boscate, l'effetto fitodepurante è molto inferiore, almeno sui pianti giovani così. Adesso li stiamo studiando, quindi negli anni a venire vedremo cosa succede quando le piante forestali crescono, perché il movimento dell'acqua qui è primariamente verticale. Quindi l'acqua di quel fosso non attraversa le radici delle piante. Vedremo cosa succede quando le radici delle piante vanno a interessare tutte le rive del fosso, allora lì ci sarà contatto fra l'acqua e le radici. Ma nei primi anni di impianto l'effetto fitodiabbattimento dei nitrati, cosiddetto, che abbiamo osservato nelle fasce tampone qua è molto limitato. Il progetto che stiamo facendo su questo tema si chiama Redafi, in realtà è realizzato non in questa zona ma in una zona più orientale, è realizzato in un'azienda agricola a Tezze sul Brenta, quindi oltre Brenta rispetto a qua, in un'area di prati, in un'area però dove c'è molto allevamento, come qua, per la produzione di latte, di formaggio, quindi ci sono tutta una serie di problematiche. Gli obiettivi del progetto, come vedete, sono quelli di ricaricare la falda da una parte e di valutare l'effetto sulla qualità dell'acqua di quegli impianti lì. Oltre al fai, quindi abbiamo fatto delle prove di coltivazione delle piante arboree, di produzione di biomassa, che andrà al taglio però quest'autunno, le piante sono recenti, e di concimazione per verificare se, utilizzando il liquame che usualmente si espande nei prati da noi, anziché nei prati lì, c'è un minore rilascio nell'acqua. Allora lì, come abbiamo detto, i primi anni si è osservato che l'inquinamento resta comunque uguale sostanzialmente, non c'è un effetto tampone importante, anche se bisogna dire la verità, questo non so cosa voglia dire, faremo delle valutazioni, bisogna fare delle valutazioni di tipo sistemico più ampio, però dal punto di vista nostro ci lascia con la coscienza abbastanza a posto, ovvero utilizzando le concimazioni di legge, i 170 kg per ettaro di azoto che sono previsti come massimo dalla legge, e il doppio che è il regime previsto se fosse stata applicata la famosa deroga, chi è addentro nel mondo dell'azotecnia sa che l'Unione Europea ha consentito ai paesi una deroga con la quale si poteva raddoppiare la quantità di azoto che si metteva sul terreno, sottoponendosi però a tutta una serie di verifiche di tipo burocrato, di controlli etc. L'anno scorso il Veneto ha aderito a questa deroga ma l'adesione da parte delle aziende è stata pressoché nulla, perché era talmente complicata la gestione di questa cosa che alla fine quasi nessuno ha aderito. Noi abbiamo fatto la prova anche col doppio sostanzialmente, abbiamo verificato che l'effetto tampone su impianti giovani è ancora molto limitato, però abbiamo anche verificato che la concentrazione di nutrienti nell'acqua che finisce in falda in questi impianti qua, con quel tipo di concimazione, è inferiore alla concentrazione di nitrati già presente in falda. Quindi, usando un po' una battuta, comunque noi stiamo diluendo gli nitrati presenti in falda buttando dentro l'acqua da questi impianti qua. E questo è un tema, dopodiché non entro nel tema sull'origine di questi nitrati, sapete bene che in realtà non è solo l'agricoltura che produce questi nutrienti, ma ci sono le origini civili, ci sono le origini industriali, eccetera, eccetera, e su questo c'è tra l'altro uno studio molto recente di Ispra che è scaricabile anche da internet dove si può vedere un'analisi abbastanza accurata delle fonti. Diciamo che nessuno è proprio del tutto innocente, tutti colpevoli, nessuno è innocente, però sicuramente le fonti sono le più diverse e in ogni caso questi non sono impianti che guardano da dove arriva, cioè se nell'acqua ci sono nutrienti e l'impianto funziona, c'è un abbattimento. Adesso vedremo negli anni a venire se anche questi impianti di alta pienumura avranno un buon risultato. Abbiamo poi fatto un controllo fitosanitario, eccetera, eccetera. Ecco, la misurazione dell'infiltrazione è interessante, cioè su queste aree qua in piena funzionalità si infiltra, come vedete, 0,8 milioni di metri cubi per ettaro anno, che è una quantità considerevole, che è sempre una quantità, come dicevo, irrisoria rispetto alla massa di acqua che c'è nel sottosuolo, ma comunque mostra una certa efficacia nel restituire alla falda acqua. E forse questo numero, che è un numero che oggettivamente fa impressione, che ha in qualche modo stuzzicato anche le varie polemiche, perché questo è un numero misurato, quindi se volete darlo, è stato riportato recentemente da un articolo scientifico pubblicato su una rivista internazionale, quindi che deriva dalle nostre prove. Quindi diciamo il primo numero, al di là di quelli che si regolano tutte le parti, che si può dire scientificamente misurato. Ecco, questo qua invece è il concetto di aree ad alluminamento programmato, vedete qui siamo in presenza di un territorio con un corpo idrico, in presenza di, in assenza di aree ad alluminamento programmato, succede questo, nel punto di più debole nel corso d'acqua, in caso di piene oltre la media, incontrollabili, succede che evidentemente l'acqua va dove trova spazio e quindi non distingue solitamente i centri abitati dalle campagne. In presenza di un sistema di aree ad alluminamento programmato, invece, scusate, io cerco di fare in modo che l'acqua vada a distribuirsi nelle aree a minore impatto sull'attività umana, evidentemente, con questi meccanismi di accordo con i proprietari. Quella non è evidentemente una cassa di espansione, perché sennò avrei dovuto sequestrare centinaia di ettari, però è chiaro che una soluzione di questo tipo, diffusa su tutto il territorio, perché poi il problema nostro grosso è che la rete idrica è complessa, cioè noi non abbiamo un territorio senza niente con un grande fiume che ogni tanto esonda, noi abbiamo un territorio ricco di piccoli corsi d'acqua, dove le criticità sono dietro ogni angolo e dove i punti critici di esondazione potenzialmente possono essere moltissimi, quindi la soluzione non può essere la grande opera, deve essere una soluzione diffusa sul territorio. qua sono le cose che ho già detto, gli svantaggi, questi non li ho detti, li cito adesso, visto che sono sulla slide, ovviamente pianificare queste cose non è semplice, perché significa trovare una contrattualistica giusta e convincere i proprietari ad aderire a un'iniziativa per la quale di fatto rendono il loro terreno disponibile ad essere allagato. Comunque ci sono dei costi di manutenzione di esercizio e vabbè quello che ho citato, comunque è una legge che consente effettivamente, in teoria considerate degli sgravi di contributo di bonifica, ma è una delle tante modalità che si potrebbero attivare per finanziare questi interventi. Ecco qua, non so se volete fare la pausa e poi io, fatemi vedere che punto sono con i numeri, sono ancora piuttosto indietro, allora io vi direi facciamo una pausa, dopo io cerco di correre di più e vi prendo un po' più o delle abitazioni nel caso ci siano, abbiamo una fascia mista alto fusto e robusti, con presenza anche di alto fusto però, questa funge da barriera visiva e quindi la gente non vede mai l'autostrada e nel contempo viene sempre tenuta in piedi, mentre la parte centrale periodicamente viene tagliata, quella esterna viene sempre tenuta in piedi, quindi chi vede da fuori la fascia boscata non ha mai la percezione che vengano tagliate le piante, o meglio ce l'ha molto più bassa, se invece avessi solo un cedo a corda rotazione periodicamente sparirebbe tutto e avrei una mitigazione azzerata praticamente. È chiaro che questo modello qua prevede un costo di gestione che non è del tutto trascurabile, però bisogna anche dire che questi sono contesti dove spesso gli impatti sono anche molto consistenti. Ecco, bisogna chiarire che l'effetto mitigante delle fasce boscate, ecco qua vediamo un attimo sul passante di maestre, in altro è all'impianto, in mezzo vedete al secondo anno e al terzo anno nella parte in bassa. Al terzo anno avevamo alberi già alti 5 metri, partendo da piante di un anno, quindi piante alte 30 cm, insomma. I risultati sono stati sicuramente molto soddisfacenti. Qui tra l'altro parliamo del 2010, se andate a vederlo adesso, cioè gli abitanti della frazione di Bonisiolo, di Mogliano, vedono un bosco, non vedono un passante. Quindi direi che il risultato è, dal punto di vista della mitigazione, è molto interessante. È interessante per quanto riguarda l'intercettazione dei particolati soprattutto, perché se progettate bene queste fasce intercettano una gran quantità di particolato proveniente dalla strada, che viene sollevato ovviamente dal movimento dei mezzi, non sono molto efficaci sul fronte della mitigazione del rumore, perché per mitigare il rumore servirebbero delle masse forestali molto più importanti e gli studi hanno mostrato molto bene che l'effetto di abbattimento dei rumori è molto, comunque non è molto forte con le barriere solo verdi, ma è massimo vicino alla barriera e mano a mano che ci si avvicina diminuisce fino ad annullarsi. Quindi se io ho una casa a 300 metri dall'autostrada, il fatto che ci sia 20 metri in fascia foscata non mi abbatte quasi per nulla il rumore. Le soluzioni migliori, se vogliamo anche ottenere un abbattimento del rumore, sono quelle di abbinare queste strutture alle classiche barriere di rumore, oppure la soluzione migliore è quella del terrapieno, che ovviamente prevede i movimenti terra, quindi è praticabile soprattutto in sede di costruzione dell'infrastruttura. Facendolo dopo diventa più complicato. Queste invece sono le fasce qua sulla Valdastico, vedete, qui era un turno quinquennale, questo è il taglio meccanizzato con cesoia, taglio meccanizzato con cesoia delle fasce a cedo, quelle centrali che avete visto prima, e cipatura. Ecco, qui noi non abbiamo utilizzato direttamente il cipato, ma lo abbiamo venduto sostanzialmente. Il centro di Montecchio, il viore di Montecchio è riscaldato attualmente con una caldaia a pezzi di legna, seppur una caldaia moderna, però una caldaia a pezzi di legna. Ecco, qua alcuni numeri che sono interessanti, cioè vedete che queste ovviamente sono delle simulazioni del tutto teoriche, però dare una misura di quanto, di cosa stiamo parlando, voglio dire, qua abbiamo un potenziale, solo sulle autostrade da pagamento esistenti nel Veneto, di oltre 1300 ettari, ipotizzando tra l'altro di utilizzare per queste fasce solo il 50% della superficie realmente disponibile, perché è ovvio che non è che puoi bordare il 100% dell'autostrade in questa roba qua. E tra l'altro utilizzando fasce di 10 metri, quindi potrebbero essere anche più larghi se ci fosse. Abbiamo fatto, vedete, un po' di... E abbiamo calcolato qua, nell'ipotesi di minima, 10.000 tonnellate di sostanza secca all'anno sulla rete autostradale, di sostanza secca, quindi... E poi qua arriviamo a 30.000, nel senso che abbiamo fatto una serie di scenari di diverso tipo, però anche fossero 10.000 sarebbe interessante. Significa circa 65 MW termici minimo gestibili con quella rete lì praticamente. La meccanizzazione di queste fasce qua avviene con questo tipo di mezzi, chiaramente sono mezzi piuttosto importanti come dimensioni, però consentono evidentemente un risparmio delle operazioni notevole. Qui abbiamo una casistica abbastanza ampia di cantieri forestali per il taglio di queste fasce. Se volete approfondire la cosa è sufficiente che vi contattate e vi posso dare una serie di pubblicazioni dove sono descritti bene i cantieri. Nel senso che abbiamo fatto proprio delle prove con il CRA, con il gruppo del dottor Spinelli che è uno dei gruppi più all'avanguardia in Italia sul tema della meccanizzazione forestale e abbiamo proprio fatto diversi scenari con diversi livelli di meccanizzazione sugli impianti lineari, quindi abbiamo una quantificazione abbastanza precisa dei costi e delle tecniche utilizzabili. Adesso speriamo in futuro di poter lavorare ancora su questo tipo di strutture perché qui non ho riportato i conti economici, però vi assicuro che rispetto alla voce, tutte queste opere qua hanno una voce di capitolato opere di mitigazione, che considerato il costo di investimento dell'opera intera, parliamo passante di mestre, è una percentuale microscopica ma in senso assoluto sono tanti, ma tanti, ma tanti soldi. Abbiamo calcolato che con questo tipo di soluzioni non si spendono tutti quei soldi. Imponiamo che li vogliamo spendere tutti, perché quando si fanno quelle opere i soldi bisogna spenderli. Possiamo veramente risolvere il problema della mitigazione di un'opera con semplicemente i denari presenti già nel capitolato da base, senza considerare possibili soluzioni che comunque avevamo valutato, perché su situazioni tipo il passante o tipo autostrade a pagamento, per realizzare le fasce boscate di mitigazione su tutta la superficie, su tutta intendo dire ovviamente dove è possibile realizzarle, anche volendo ricaricare i biglietti di pedaggio, che è una cosa che ovviamente le società autostrade vedono come la peste assoluta, stiamo parlando di ricarichi veramente irrisori, sull'intera tratta dell'A4 abbiamo calcolato se dovesse fare qualcosa come 2 o 3 centesimi di biglietto in più, ripaga non solo l'impianto, ma ripaga anche il mancato reddito eventualmente degli agricoltori che dovessero mettere a disposizione, cioè la stessa somma che prenderebbero dal PSR se facessero una misura sia per i boschetti, quindi veramente qui manca solo la volontà di farle queste cose qua, senza contare, perché non l'abbiamo considerato, il recupero della biomassa, perché qui ovviamente abbiamo immaginato che questi siano interventi che hanno una funzionalità prima di tutto sociale, quindi se recupero la biomassa è attivo su quei quantitativi, capite che il gioco potrebbe essere veramente molto interessante. Qui sono un po' di immagini di altri tipi di attrezzature, questa è sempre una short rotation con una cesoia montata sul trattore, una cesoia piccola, questa è interessante per piccoli impianti perché riesce a lavorare 2 o 3 piante al colpo e la può guidare un operatore normale ed è una macchina che ha un costo abbordabile perché le macchine che abbiamo visto prima sono macchine usualmente acquisite da contoterzisti che le fanno lavorare di continuo e che sono macchine che costano molti soldi, cioè un processore può arrivare a costare a 4 o 500 mila euro. E qui sempre tipologie diverse di cesoia, vedete. Questa è una macchina sperimentale, sperimentata dal CRA, sempre per la short rotation, e cippatrici di diversa misura, anche sulla cippatura è più importante sapere chi dovesse avventurarsi nel realizzare una filiera da solo, sia esso un privato che un'amministrazione, faccia bene i conti sul tema della cippatura, perché un'altra attrezzatura che costa molto è il cippatore. Dalla tipologia di cippatore deriva la qualità del materiale che esce, i grossi cippatori lavorano un materiale molto meglio della piccola attrezzatura e l'altro elemento è che la tempistica ovviamente cambia di molto. Mi spiego, lasciando stare ovviamente i cippatori casalinghi, andando su cippatori comunque di tipo professionale, può convenire anziché comprare un piccolo cippatore e lavorarsi in proprio tutto il materiale con tutta la mano d'opera che serve, potrebbe convenire accantonare tutto il materiale e andare a noleggio con un grosso cippatore industriale, che so, un paio di volte all'anno, e trasformare tutto il materiale accumulato in cippato. Molto spesso queste soluzioni qua convengono di più, piuttosto che un trattamento improprio, anche perché comunque un cippatore di media dimensione ha comunque un costo non trascurabile. Dopo ci vuole l'operatore, bisogna far bene i conti. Queste sono macchine operatrici per il taglio laterale dei rami, per poter poi lavorare vicino. Quello sotto invece è uno span di concime sperimentale che abbiamo messo a punto per lavorare con gli spazi molto stretti, perché nelle fasce di filtrazione che avete visto prima abbiamo un interfilare molto stretto. Anche lì, anno dopo anno, abbiamo messo a punto dei modelli più meccanizzabili, perché è chiaro che lì il gioco è che più piante metti per ettaro, compatibilmente con le distanze ovviamente fisiologiche, e più massa AI per ettaro. Però meno meccanizzabile è l'impianto, quindi le ultime aree di infiltrazione, ad esempio, le abbiamo fatte allargando l'interfilare tra i fossi e in alcuni casi anche piantando soltanto su un lato e non su tutti e due. Questo per agevolare la meccanizzazione dell'intervento, perché è chiaro che qui il fattore economico diventa essenziale. Se devo fare un cantiere a motosega su questi impianti qua e sboscare in presenza dei canali, eccetera, è complicato e costoso. Quindi è molto importante lo studio delle macchine da utilizzare. Ecco, qua faccio un cenno veloce al biomassa erbacee, abbiamo un progetto attivo su questo tema che si chiama GR3 e che invece analizza la filiera dell'erba recuperata da aree marginali con finalità di produzione di biogas. Allora è un progetto un po' particolare, perché in realtà è una realtà che da noi in Italia non esiste questa per vari motivi, motivi di tipo economico e legislativo essenzialmente. L'erba raccolta in ambito agricolo dagli agricoltori la legge la considera un sottoprodotto dell'agricoltura e quindi può essere tranquillamente dirottata direttamente a un digestore anaerobico per produzione di biogas. L'erba raccolta in contesti urbani invece è considerata un rifiuto, così come le ramaglie e quindi al suo bravo codice CR deve finire in discarica, almeno in teoria. Fate un po' di conti e non succede proprio così. Comunque abbiamo fatto un po' di valutazione di quanta erba c'è in giro, se dovesse finire tutto in discarica sarebbe l'affare del secolo, ma questo non succede. La realtà vera è che purtroppo la legge non definisce un confine veramente netto fra queste due realtà, per cui siamo in presenza di situazioni alle volte discutibili. Quando la situazione è discutibile, stante la gravità delle sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti, tendenzialmente si interpreta quell'erba lì come rifiuto, piuttosto che come non rifiuto, piuttosto che rischiare evidentemente di... In contesti agricoli però la legge ne consente uso nei digestori. È chiaro che questa è una partita molto interessante, infatti nessuno lo fa, però il progetto ha avuto un riscontro di interesse enorme perché ci sono soggetti, soprattutto amministrazioni pubbliche come i comuni o i consorzi di bonifica che sopportano dei costi veramente molto notevoli per la raccolta di questo materiale, che spesso viene trinciato e lasciato in loco proprio perché questa è la soluzione apparentemente meno costosa. In realtà qua non entro in tutti i dettagli, però è molto interessante il fatto che questa erba qua potrebbe andare a sostituire una quota a parte di mais in quelle filiere che ho citato all'inizio che si sostentano solo sul mais e quegli impianti di produzione di biogas che hanno problemi di alimentazione perché non trovano la massa sufficiente. Un impianto da megawatt ha bisogno di circa 150 ettari di mais a piena disposizione per poter funzionare a regime solo col mais. Se immaginate che in certe aree sulla stessa zona sono nati 2, 3, 4 digestori di questo tipo, tutti quanti hanno fatto conto sugli stessi 150 ettari, capite già che la problematica dell'alimentazione di questi impianti è notevole, anche perché sono impianti calcolati per funzionare nelle fatidiche 8 mila ore all'anno, non devono fermarsi mai, ogni giorno che si fermano è un giorno in più nel ripago dell'investimento, quindi sono problematiche non da poco queste. Diciamo che non sono i tipi di impianti che noi abbiamo in qualche modo promosso anche come veneto agricoltura, perché gli impianti migliori per la produzione di biogas sono impianti ritagliati sulle dimensioni dell'azienda, dove c'è una stalla, se non c'è una stalla non ha molto senso fare un impianto per la produzione di biogas agricolo, dove c'è una stalla, dove si usa primariamente le deiezioni della stalla e in seconda battuta una percentuale piccola di cotture dedicate, è chiaro che questi sono impianti che non si attanagliavano per nulla sui regimi di contribuzione che ci sono stati fino a due anni fa, perché lo 0,28 a fondo perduto andava a ottimizzare sostanzialmente la soluzione dell'impianto da megawatt con il mais, perché il mais ha un valore energetico molto superiore a quello delle deiezioni, quindi i conti sono presto fatti, la gente preferiva impianti di quel tipo. Abbiamo dei begli esempi, nella stessa azienda dove ci sono le aree di infiltrazioni che avete visto, quello è un esempio molto virtuoso di azienda, perché è un'azienda che ha una stalla di 250 bestie, produzione di latte, ha una produzione di piante e vendita di piante, quindi un garden con la serra dentro l'azienda, quindi ha la doppia produzione, un impianto di mini biogas e la fascia buscata fuori e adesso ha messo in piedi una caldaia per il riscaldamento delle serre. Voi capite che è un'azienda di questo tipo, però un impianto da biogas è un impianto a 70 kW, cioè è un impianto fatto per funzionare con le deiezioni dell'azienda, più un 15-20% di sorgo che a rotazione lui fa sui suoi terreni. Il calore dell'impianto a biogas è recuperato per far funzionare i letti di riscaldamento delle serre, mentre il riscaldamento massivo della serra viene fatto con la caldaia a biomasse che funzionerà, perché l'impianto ancora è troppo giovane, con la legna ritratta dall'area di infiltrazione, giustificando anche in parte la presenza di quest'area. E questo è un imprenditore che ha fatto tutto questo solo parzialmente con finanziamenti pubblici, per cui ha fatto i suoi conti. Quindi diciamo che è un tipo di impresa che prevede una certa capacità anche di diversificare le proprie produzioni e quindi non è proprio frequente trovare degli imprenditori agricoli che lavorino in questo modo qua. Però è la dimostrazione che è possibile, non è una cosa così irrealizzabile. Ecco, qua il progetto sta andando avanti e si chiuderà l'anno prossimo con grandissimo interesse. Noi vorremmo riuscire ad attivare due mini filiere con recupero dell'erba in contesti, uno lontano e uno di pianura, in contesti dove sia possibile recuperarla nei dintorni, perché il vero problema dell'erba, ci sono diversi problemi nell'erba raccolta. Il primo problema è che se deve buttare al dettore digestore l'erba deve essere perfettamente pulita. Quando la raccolgo sfalciando voi potete immaginare che tiene su un po' di tutto. E trattamenti come questo di bagliatura successiva sono trattamenti interessanti però che ovviamente prevede un passaggio in più, quindi un costo in più. Il problema di fondo dell'erba nel digestore anaerobico è che l'erba ha un contenuto energetico, vediamo se è citato qua, intanto come vedete è molto voluminoso. Abbiamo una grande quantità di metri cubi a parità di contenuto energetico. È più difficile da insilare, bisogna creare una filiera ad hoc perché come vedete le rotoballe come quella sono rotoballe fatte con erba sfalciata e non trinciata, quindi devono essere trinciate successivamente, se no bisogna utilizzare le stesse macchine che utilizzo per l'insilatura del mais per insilare l'erba. Bisogna raccogliere una quantità notevole, quindi c'è un problema di movimentazione e di logistica, sono l'impianto a biogas di vicino e il gioco vale, se no diventa un costo solo movimentare questo materiale qua. L'altro tema è quello appunto della pulizia, quindi la possibilità di bagliarlo successivamente perché quello che finisce dentro il digestore, però non è che il digestore lo si può ripulire molto facilmente, cioè deve entrarci nel materiale quanto più possibile pulito. Qui ci sono le due vie, da una tonnellata di mais ha un contenuto energetico che si raggiunge con da 1,5 a 3 tonnellate, direi più 3 con 1,5 di erba, quindi rapporto da 1 a 3, vuol dire che io devo muovere 3 volte lo stesso volume per avere la quantità di energia che avrei con il mais, capite perché il mais è utilizzato, perché ha un valore energetico veramente molto interessante. Ecco, altre soluzioni, vedete qua che sono due possibili vie, l'uso tal quale del materiale fresco, che però dà alcuni problemi, considerate che l'erba appena tagliata ha un contenuto idrico elevatissimo, oltre l'80-90% in alcuni casi, quindi sostanzialmente io inserisco nel digestore un materiale molto diluito. È ben vero che non è che io la taglio e la butto nel digestore, è sufficiente lasciarle sul terreno un paio di giorni che gran parte di quello in Italia se ne va. È chiaro che il vantaggio grosso è che il materiale è già pronto sostanzialmente, mentre l'insinamento dà il vantaggio di una conservazione migliore del contenuto energetico dell'erba e di una possibilità di stoccarlo, quindi di utilizzarlo poi nel tempo. Vedete che la dieta non omogenea qui è riferita come difetto perché il digestore in teoria dovrebbe ricevere sempre la stessa dieta, quindi la stessa percentuale di prodotti che gli inserisco. Se la cambio, non è che non posso cambiarla, ma se la cambio vado a influire sul consorzio batterico, sulla sua attività all'interno del digestore. Quindi quanto più uniforme è la dieta è un altro motivo per cui il 100% mais è comodissimo, devo poi riadattare una serie di parametri all'interno del digestore. È chiaro che con l'insinamento riesco a utilizzare magari una piccola percentuale di erba sempre e quindi rendere più uniforme l'alimentazione dell'impianto. Comunque mi assicuro che qua il tema di fondo è questo, se c'è un soggetto come ad esempio il consorzio di bonifica che sostiene milioni di euro di spesa per raccogliere l'erba, capite che se anche riesce a venderla a pochi centesimi, comunque tutto quello che ottiene è di non avere più tra i piedi quel materiale lì e nel contempo di abbattere i costi di taggio, non ci guadagna di certo, abbatte i costi sostanzialmente. Un'altra soluzione interessante è questa qua dell'esclusione, vedete, sostanzialmente viene pressata, qui c'è una perdita di umidità, si libera con l'acqua e i succhi, quindi c'è poi una miscelazione migliore del materiale. e qui i numeri sono veramente importanti, cioè la superficie complessiva che abbiamo fatto un po' di calcoli, adesso qui dentro c'è anche pascoli diversi come categoria, vedete che sono 22.000 ettari, levando quei 22.000 ettari lì comunque non cambia di molto la sostanza, cioè noi abbiamo nel Veneto togliendo quelli circa 120.000 ettari di aree erbose marginali potenzialmente utilizzabili, con una produttività complessiva vedete che si aggira su 1.100.000 tonnellate all'anno di sostanza secca, quindi sono quantitativi importanti che un territorio come il nostro è un peccato che vada a disperdere sostanzialmente, anche se noi come detto per tutti i motivi che vi ho citato, ipotizziamo su questa filiera qua di attivare delle realtà abbastanza di micchia, dove le condizioni consentono effettivamente un utilizzo economico della cosa e avviene questo, che ne so, nel Consorzio di Bonifica Veronese ci sono dei tratti di argini con tratti arginali larghi anche 30-40 metri e con impianti di biogas a meno di un chilometro di distanza, allora io lì ho che qualche chilometro di canale può alimentarmi una piccola percentuale dell'esigenza del digestore. vedete che tanto biogas in Italia noi siamo diventati i terzi produttori di biogas in Europa e dopo la Germania, non ricordo se l'Austria siamo i secondi o i terzi, quindi parliamo di biogas per lo più prodotto tutto nel nord Italia, le regioni principali sono Lombardia, Emilia e Veneto Lombardia, Emilia e Veneto hanno la gran parte degli impianti, noi abbiamo circa 140 impianti nella nostra regione attualmente, censiti e la gran parte sono impianti agricoli da megabatt e qui sono censiti anche gli impianti di tipo di trattamento rifiuti che però sono pochi 5-6 impianti in tutto il merito. Ecco, per quanto riguarda questo progetto, se qualcuno ha voglia di approfondire il tema ci sono già dei documenti disponibili, il documento di buone pratiche, di migliori tecnologie disponibili di stato dell'arte e delle tecnologie, è già disponibile e scaricabile dal sito del progetto è un documento abbastanza corposo, un'ottantina di pagine, è in inglese ma nello stesso sito è possibile scaricare un abstract dello stesso documento tradotto in italiano. E qui si ha un po' tutto la tecnologia di raccolta, che macchina utilizzare, quando, come, quali sono le soluzioni migliori di trattamento, eccetera eccetera. Ecco, cito per ultimo un progetto, qualcuno, sarebbe il penultimo ma vado via veloce proprio, questi due progetti che cito adesso sono progetti che riguardano direttamente le amministrazioni comunali e quindi li ho messi dentro anche un po' per questo motivo qua. Il progetto Alta Renegy, forse qualcuno ne ha sentito parlare, è un progetto ipadriatico, questo finanziato dall'Unione Europea e in realtà anche qui può essere interessante per chi è amministratore reperire della documentazione tecnica dal sito di progetto perché è un progetto che pur essendo calato sulla realtà adriatica, quindi non montana ma diciamo di bassa pianura a ridosso del mare adriatico, ha previsto proprio tutta una serie di azioni invece qua di sistemi di governance sia dell'energia sia del risparmio energetico a partire dalle piccole comunità, cioè il progetto è incentrato sulle piccole comunità adriatici, cioè comuni di piccole dimensioni che sono quei comuni che di solito hanno più difficoltà ad affrontare una pianificazione energetica di un certo peso che costa ed è impegnativa poi da affrontare. Il progetto, vedete, quella è l'area ipadriatico, per il Veneto prevede soltanto alcune province, alcune parti di provincia, quelle ovviamente che si affacciano sull'adriatico, noi qui abbiamo, quelli sono tutte le nazioni coinvolte, questo tanto Alter Energy è un progetto strategico, per chi sa di questi progetti qua, gli strategici sono progetti nell'ambito della programmazione che non sono soggetti a bando, ma sono decisi a tavolino dai governi, c'è un piccolo numero di progetti che quindi non ha affatto il bando, però quello che si paga è che ovviamente perché sia strategico il progetto ha dentro tutti, quindi questo veramente su quei progetti con 15 partner, dopo gestire le cose diventa una cosa, ecco, non vado oltre perché vi assicuro che gestire un ipadriatico di questo tipo qua, gli oneri di gestione sono circa il 60% del totale. Comunque la cosa interessante è che per questi comuni, perché erano definiti al di sotto di 10 mila abitanti, è stato fatto tutto un percorso di coinvolgimento sia dei cittadini che degli amministratori e con la realizzazione dei documenti essenziali per la gestione energetica del territorio comunale e di valutazione di percorsi, di possibilità di finanziamento, quindi se è vero che questo è stato calato su un comune in particolare, perché è stato selezionato un comune per fare da test, è anche vero che le modalità sono esattamente le stesse, quindi tutta la documentazione che è stata messa a punto per il progetto può essere reperita e utilizzata liberamente da altre amministrazioni che volessero avvantaggiarsene. È chiaro che per il comune che è stato selezionato abbiamo fatto, come vedete, la valutazione energetica della comunità, piano di azione per energia sostenibile e uno studio di fattibilità sul miglioramento della realtà energetica del comune, eccetera. In questo caso qua è stato selezionato il comune di Polverara, abbiamo fatto un bando pubblico e questo comune qua ha vinto fra i comuni che sono, ovviamente hanno potuto partecipare solo i comuni di padriatica, al di sotto dei 10.000 abitanti, quindi in realtà non era un numero elevatissimo di amministrazioni. Questo comune qua aveva già fatto una serie di cose, non aveva ancora il piano, non aveva ancora fatto il PAES, però aveva già una caldaia con una rete di teleriscaldamento, più una serie di progetti di miglioramento energetico, quindi in base ai criteri del progetto Alter Energy è il risultato vincitore. Abbiamo fatto un bel lavoretto, però oltre a fare l'inventario a base delle emissioni di tutto quello che tra l'altro è ciò che è previsto se si vuole aderire al patto dei sindaci, tra le altre cose. Oltre a questo abbiamo proprio modelli di coinvolgimento della popolazione, il modo per cercare di… e direi con dei risultati buoni. Tra l'altro il progetto ha previsto il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche, quindi se qualcuno è interessato è possibile anche avere degli interventi in cui viene descritto quello che è stato fatto anche per altre amministrazioni comunali. Abbiamo fatto la diagnosi e il miglioramento energetico di alcuni edifici, in questo caso municipio e scuole elementari e l'ottimizzazione della caldaia, perché qui è la classica situazione, caldaia in piano di teleriscaldamento con un sacco di problematiche di gestione. Il risultato, tu vai e ti dicono no, non funziona, la legna è un problema, eccetera, eccetera. E l'abbiamo proprio analizzato tutta la filiera e messo a fuoco quali erano le problematiche sia di progettazione dell'impianto sia di gestione da risolvere per ottimizzare la situazione. E ci sono venuti fuori dei margini di miglioramento enormi. Cioè loro avevano già la macchina ma non la sapevano guidare, per essere proprio un po'... ecco. Una domanda, quando era fatto il Comune la caldaia? Sì sì, l'ha fatto il Comune e poi l'ha fatto una società di gestione mista. Di un'iniziativa del Comune? Di un'iniziativa del Comune, con una serie di problematiche comunque. Analizzando le realtà esistenti è interessante perché si capiscono un po' gli aspetti sia di gestione che di tipo tecnico. Guardate, sulla filiera della legna sono altrettanto importanti sia l'aspetto progettuale sia l'aspetto di governance. L'aspetto progettuale via via si va migliorando perché il vero problema è che noi avevamo un gap tecnologico a livello di preparazione dei tecnici molto grave negli anni scorsi. Cioè, per essere molto espliciti, trovare un tecnico pure esperto di impiantistica che fosse in grado di progettare bene un impianto a legna era quasi impossibile. Adesso che tutti i tecnici erano sulla carta in grado di farlo. Ma nella pratica poi dopo i primi impianti realizzati hanno tutti delle pecche di tipo o progettuale o impiantistico. Tutti. Adesso cominciamo a vedere degli impianti che funzionano bene. Ovvero, finalmente hanno cominciato a formarsi dei tecnici che sono realmente in grado di progettare impianti di questo tipo. Che sono impianti teoricamente semplici, ma la legna è un combustibile diverso dal gasolio e chiede tutta una serie di accorgimenti progettuali specifici. Che un impiantista che è abituato a lavorare con metano e con gasolio, purtroppo se non è formato non è in grado di affrontare. Ma guardate che passiamo attraverso delle cose ridicole. Cioè caldaie che non riescono a funzionare perché, che ne so, la bocca del silos è messa in un modo che ci vogliono tre ore per caricarlo. Cioè stupidaggini di questo tipo. Oppure inclinazione delle cocle progettata male per cui la cocle si blocca ogni tre giorni, vuol dire bloccare la caldaia. Capite bene, se faccio una caldaia per una scuola, non è che posso bloccare la cocle in tre giorni e chiamare la ditta. Cioè, tutti aspetti che, per essere espliciti, suggeriscono di selezionare bene la ditta che realizza il impianto. Sulla base dell'esperienza assunta. Vabbè, qua ci sono tutta una serie di cose. Ecco, qua erano tutte le varie ipotesi. Abbiamo fatto quattro ipotesi per l'ottimizzazione della caldaia. Ottimizzare la caldaia come era, partire con un impianto di cogenerazione con la caldaia ad acqua esistente, oppure passare una cogenerazione con caldaia a vapore o addirittura una antirigenerazione con caldaia a vapore. Chiaro che queste ultime soluzioni prevedevano un ulteriore investimento sulla caldaia esistente o con la sostituzione o con l'abbinamento a un'altra unità. Quindi lì le valutazioni le farà poi il comune. Ecco, questo è l'ultimo progetto che cita, quello che avevo accennato all'inizio. Una cosa interessante che riguarda quei comuni che vedete, che sono comuni non distanzissimi da qua, anche se sono comuni montani. Sono comuni accomunati dal fatto di avere evidentemente un territorio che è prevalentemente coperto da superfici boscate, nel caso di tre di questi comuni sono superfici boscate per lo più di proprietà privata, nel caso di Recoaro invece c'è una proprietà boschiva, un entrarato anche di un certo livello di proprietà del comune. Veneto Ricoltura è entrato come coordinatore per fare uno studio su un'ottimizzazione dell'interazione fra i comuni nella gestione della risorsa legno a scopo energetico, quindi con l'ipotesi di fare delle piattaforme comuni e di ottimizzare l'utilizzo della risorsa, cercando di attivare tutte le imprese che già insistono sul territorio e di attivare una filiera logistica che in qualche modo fosse ottimizzata fra vari comuni, con anche qui il riscaldamento di utenze pubbliche, con l'interessamento prima di tutto dei proprietari pubblici e poi anche in seconda battuta dei privati ovviamente, perché l'augurio che ci facciamo è che poi anche il proprietario di bosco privato in qualche modo si faccia avanti. Stiamo ipotizzando diverse soluzioni che vanno dal consorzio forestale ad altre forme di gestione e la cosa ovviamente qui, perché abbiamo scelto questi comuni? Perché in cima alla Val di Lasi noi abbiamo la foresta di Giazza che è demanio regionale e che è gestione a venduto di cultura, quindi noi potremmo in questo caso fare un esempio pilota dove siamo direttamente attori delle attività e del consorzio. È chiaro anche che un'iniziativa di questo tipo, se è successo come io mi auguro, può essere un'iniziativa pilota perché quelli sono comuni che sono in realtà abbastanza facilmente sovrapponibili alle realtà amministrative di tutta la pedia montana voglio dire, quindi lì abbiamo tutti i soliti problemi, la fermentazione della proprietà forestale, la difficoltà di accesso, le strade forestali, la mancanza di attrezzature. Di questi comuni abbiamo uno che è Badia Calavena che è già più avanti, ha già un impianto e quindi ha già esperienza, anche in questo caso l'esperienza è interessante perché loro hanno già praticato la strada, significa che l'ufficio tecnico del comune di Badia Calavena è fatto di persone che si sono sporcate le mani e hanno affrontato i problemi, sanno quali sono i problemi e noi ci siamo proposti per cercare evidentemente anche lì di ottimizzare, cercare di risolvere i loro problemi e di proporre quindi a tutto il pacchetto di comuni delle soluzioni praticabili. Tra l'altro questo è un progetto che avrà un profilo temporale piuttosto limitato, significa che i risultati non arriveranno fra 3-4 anni, ma contiamo per la seconda metà di quest'anno di avere lo studio di affrontabilità completato perché l'aspirazione dei comuni è quella di arrivare con qualche idea operativa ai bandi por che dovrebbero, si spera, uscire quest'autunno, i nuovi bandi por. Per noi queste sono attività pilota, quindi una volta che è completato la documentazione sarà disponibile a chiunque voglia utilizzarla anche per l'attività propria. Le attività previste sono l'analisi del territorio raccolta d'arte sulla disponibilità di biomassa, le analisi del quadro giuridico, amministrativo e autorizzativo, quindi anche gli aspetti di autorizzazione, quali sono le vie migliori, l'ipotesi di localizzazione di piattaforme logistiche per la raccolta e la trasformazione e poi la delocalizzazione alle utenze finali della biomassa e un quadro economico complessivo nonché ovviamente i modelli di governance possibili, quindi la soluzione della ESCO, della gestione diretta, gestione tramite cooperative, gestione diretta da parte del consorzio forestale, faremo diversi scenari e vediamo quale dei vari saranno quello che funziona meglio. E qua ci sono una serie di ipotesi. Ecco, io qua avrei finito la mia, questa è la nostra bellissima serie, il sito in alto è quello di Veneto Agricoltura, è un sito che a breve spero verrà rinnovato, non posso elencarlo fra i più bei siti che io conosca purtroppo, lo dico al nostro riscapito ma negli anni si è un po' pasticciato quindi l'accesso e trovare roba non è così semplice, però se andate sul capitolo biomasse e spippolate un po' riuscite a trovare la documentazione, trovate parecchia documentazione scaricabile sul tema delle biomasse anche legnose, tutti i documenti che noi abbiamo pubblicato su cartaceo sono disponibili anche in pdf, ad esempio per citarne uno c'è stato uno studio sulla biomassa dell'area del Feltrino dove è stata proprio analizzata la filiera del Cipati in un'area montana, eccetera, eccetera, dove ci sono diversi dati e se doveste avere delle difficoltà potete ovviamente contattarmi e per quello che è ancora disponibile ho il cartaceo, se no vi do i file pdf. Il progetto GR3, quello dell'ERPA famoso ha quel sito lì, l'alter energy è alter energy.eu e quelli sono i nuovi telefono da indicare. Ultimo elemento, stiamo riattivando adesso un servizio di sportello sulle bioenergie, è uno sportello di orientamento, quindi non è uno sportello di approfondimento tecnico, è una scelta che abbiamo fatto per due motivi essenzialmente, il primo è che l'approfondimento tecnico è bene che sia compito dei professionisti e non dell'ente pubblico e quindi non vogliamo andare a sovrapporci a competenze che non sono nostre. Il secondo è una scelta di opportunità perché voi capite bene, noi siamo cugini della regione, la regione ha finalità anche autorizzative, sarebbe a quanto sconveniente se i progettisti venissero da Veneto Agricoltura a farsi dire se il loro progetto va bene o non va bene e poi andassero in regione a dire ma Veneto Agricoltura mi ha detto che il mio progetto va bene. E quindi lo sportello di orientamento significa però che se un agricoltore, un amministratore, un tecnico, un semplice cittadino vuole approfondire dei temi con degli esperti può venire lì e farlo sostanzialmente, accedere a tutta la documentazione nonché approfondire i temi. Verrà pubblicizzato in futuro o in prossime settimane perché lo stiamo riattivando proprio adesso. Questo per adesso è tutto, in realtà di attività ce ne sono molte altre ma ho cercato di focalizzare quelle che mi sembravo potessero essere più interessanti per il contesto di oggi. A questo punto a voi per curiosità, dubbi e quant'altro. A questo punto a voi per curiosità, dubbi e quant'altro. A questo punto a voi per curiosità, dubbi e quant'altro. A questo punto a voi per curiosità, dubbi e quant'altro. Grazie a tutti